questo è partito partito questo pesa un cazzo fa un po murlata pronto ok a posto però la registrazione corrompe proprio perché diventa una pagliacciata tutto quello che ecco perché queste tecnologie perché che succede quando tu utilizzi questa tecnologia tutto quello che si faceva è come la pugnetta tu ti fai la sega e sai che entro cinque minuti sborri e finisce se tu invece non puoi sborrare arrivi che tanto che si è rapato esci di casa e ti trovi una donna se invece ogni giorno tu sei abituati che devi sborrare e non però purtroppo oggi ci hanno messo in una situazione in cui era come se tu per dire no tu hai passato la tua giornata no e sei tipo un taccuino un diario per dire prendi delle cose che ti sono rimasti come come per dire ieri ha scritto una cosa la nel ma mi ha scritto perché rimane a seguire però comunque sia in qualche modo hai evidenziato certi punti però si esaurisce detto della giornata con cui dobbiamo uscire dal concetto di giornata se tu entri nella giornata se entrando nell'idea che la tua vita va bene e già ci sono delle giornate che funzionano io invece sono dell'idea che le mie giornate non funzionano non possono funzionare non c'è niente da prendere devi devi proprio far uscire il sangue perché secondo me purtroppo ci hanno creato quest'idea che si può comunicare solo con questi infatti sai cosa farei io ancora meglio ancora meglio non penso tu sarei d'accordo anzi sicuramente no prenderei questo microfono e andrei in piazza e continuerei a parlare e so come farlo facendo finta ed è quello che facevo nei miei cazzi di video dieci anni fa facendo completamente finta che tutto il mondo non esiste e continuando a parlare dopo venti minuti il mondo non esiste scompare perché si crea io l'ho fatto perché c'era la bancarella è uguale tu dopo cinque dieci minuti che togli la tensione puoi anche cagare in piazza nessuno ti dice niente puoi fisicamente cagare però devi applicare devi devi andare oltre i primi venti minuti allora a quel punto avrebbe un senso perché loro ci hanno illuso che noi possiamo comunicare solo tramite questi mezzi del cazzo e che succede noi ci facciamo le pippe perché possono essere dei discorsi belle cose ma non hanno niente a che vedere ci sono dei semi che uno tiene sull'asfalto invece se uno li mette nel terreno può essere che seminano e allora uno deve sfruttare la tecnologia c'è questa merda con cui ci hanno intrappolato come strumento per fottere la tecnologia stessa cioè siccome io sono dipendente dalla tecnologia utilizzo la tecnologia in piazza però il centro è la piazza non la tecnologia e allo stesso tempo a fine giornata mi rimane l'audio infatti avevo pensato di fare delle letture di fronte ai supermercati è legale non c'è neanche più obbligo di mascherina all'aperto ti metti seduto su un muretto e panni a quel punto va via la presa per culo che si stanno che rimane una finzione una pagliacciata questa è una cosa che era se no dici ma quello che dico dico va bene tutto cioè toglie la tensione registrare non so se cioè è come se tu stai facendo venire una persona ad ascoltarci però questa persona non sappiamo chi è e dobbiamo coinvolgerla con la persona che sta ascoltando oppure la lasciamo dove sta dobbiamo coinvolgere però dato che noi non abbiamo un discorso già creato in cosa la dobbiamo coinvolgere viceversa se tu stai fuori la vedi per lo meno ma vediamo che succede una seguita spiritica evocchiamo il bel zebu entrippure a cala hell per me invece mi piace molto il concetto di dire quello che cazzo vogliamo dire così tramite cioè uno si fa un'idea di quello che cazzo vuole dire e fa una registrazione rispondendo a un'altra persona per dire ah ti rispondi un'altra persona vabbè è diverso ma anche qua stiamo facendo tutt'altro qua stiamo rispondendo a noi stessi no nel senso che magari ci rimangono gli spazi vuoti così alla fine io non voglio manco fa perde tempo a nessuno che potrebbe ascoltare qualcosa vedi che sei già entrato subito tu sei inconsciente proprio sì ma io voglio concentrare la cosa non voglio far perdere tempo a gente ma è davvero come ti fa abbiamo detto mettiamo l'audio io non riesco a prendere consapevole tu hai detto di creare un cazzo di video poi poi te fai problemi se dobbiamo coinvolgere questa terza persona o no 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 vada fermo mi sa che tu non hai all'orecchio io ho detto potremmo anche registrare ma dovremmo fare un canale a parte abbiamo iniziato così se facciamo con quelle delle ricordate di cittadina facciamo canale a parte poi abbiamo detto ma vediamo proviamo a vedere che succede a vedere che succede che cosa intende per vedere se succede azioniamo gli strumenti e vediamo come io io poi tu vedi tu io vedo io tu vedi ognuno vede per sé come reagisce la mente siccome non stiamo seguendo un filo ed è quello che io non voglio io non voglio seguire un filo perché non sono una marionetta le marionette seguono i fili io non seguo fili io seguo quello che ho nel cuore esce da sé se a tempo si 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 crea da sé e ho sto seguendo bisogni personali e tu hai detto si minchia in queste due ore che stai parlando hai detto un sacco di cose io ho detto benissimo appurato questo azionati io mi sto iniziando a senti la loro presenza sto iniziando a e come a teatro tu entri prima devi sentire il pubblico sto iniziando a ambientarmi e sto cercando di includere queste presenze una volta che non è incluso magari il discorso scatta se però tu dici ci sono i tempi vuoti le cose puoi dirlo sempre nella palliacciata però io ti ricordo che avevamo detto che la persona che si sente non deve avere la pappa pronta non deve essere intrattenimento ho detto devi investire quattro ore non verrà nessuno ben venga e tu infatti hai detto a me io non sono legato a nessuno non è che con quelle persone che sono riuscito a coinvolgere non ho fatto niente quindi non sono legato ho detto bene che si prendano il pippone io ho detto sì ma poi che succederà tu andrai a selezionare il meglio e metterai il meglio e infatti immediatamente tu stai applicando lo stesso preferimento non voglio che si perda tempo bisogna parlare tu me l'hai detto adesso che ti stai adattando a questa nuova cosa che stiamo facendo io pensavo che tutto un tratto tu nemmeno volevi aver cambiato idea cioè non ti piaceva manco l'idea di fare questa cosa no non mi piace ma vada avanti io si dico una cosa attenta che lo faccio ho detto due o tre ore io tre ore qua sto a posto due o tre ore poi vedi alla fine che è successo però non è che è cambiato tutto da prima si che mi sto rattando a posto questi strumenti sono merda viceversa andando in piazza c'hai già l'ala cioè diventa ancora più ciofeca diventa sull'evocazione degli spiriti poi magari diventa qualcosa lo so poi dipende pure da te io ti faccio il mio e tu per il tuo però io me ne accorgo quando è una presa per culo oppure quando si sta cercando di perché il canale dove eventualmente la gestione delle cose tecnologiche la fai tu quindi io ho finito la cosa da dire non finisce non è che quindi capito e poi servono tempi lunghi perché i discorsi poi come il grande fratello cioè se l'apro magari il discorso esce ma fare perdere tempo la gente perde tempo sempre anzi più gli dai la cosa che loro vogliono e più perde tempo perché se ne vede duemila di strozzate tutte concentrate di elettroshock però alla fine non non si vede niente cioè io se l'apro telegram ci stanno due miliardi di micro video elettroshock sensazionalistici però ne ho visti duecento non ho non ho sentito nessuno essere umano che sta dall'altra parte o che sta veramente cercando di fare qualche cosa dentro capito comunque detta questa professori di realizzazione siamo qua questa nuova tortura con questa nuova tortura ma i livelli qui qua servirebbe ecco qui servirebbe la scardovellizzazione perché lì ecco lì si va proprio io prenderei la lavagna veramente prenderei proprio la lavagna dopo ieri che da americosco regione siamo iniziati a entrare io se tu c'è una lavagna lavagna ho un pezzo bello con un magnete perché io alla lavagna ce l'abbiamo qualcosa di quel tipo però bisogna poi fare il video se lo fa tutto e ce l'hai la lavagna che cosa non è non è un pezzo un pezzo un pezzo un pezzo un pezzo un pezzo poi fa la scansione dai non c'è una carta no scusa uso questo che bella penna ce l'hai no fondo bianco no 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 scusa dammi dammi una penna se ce l'ho che smazzita se va bene mazzita va più sciolta se c'è la penna più penna meglio io c'ho ci va bene questo ustica lines ustica si anche io c'ho questa che costa allora dunque iniziamo il sermone del mattino cari fratelli e sorelli allora cari fratelli e sorelli come ha detto il papa fratelli e sorelli allora fratelli e sorelli iniziamo la schematizzazione scardovelliana intanto io metto un po' di legna così che bruci allora procediamo questa è tutta una ciopega che loro dovranno scoprire da loro come quando stai cercando l'oro diciamo no è bravo esatto piano piano devi far culo esatto e qual è il nostro oro lo sai qual è? è lo spettatore che desideriamo noi dobbiamo creare lo spettatore nel nostro pensiero non dare allo spettatore quello che lui vuole può essere che non riusciamo a creare lo spettatore quello è l'obiettivo creare uno spettatore che ha noi sgarbi e non sgarbi mi salverò una flaconizzazione una flaconatura ecco questo questo plafonatura cosa si truciano no? ah quindi vuoi no perchè costitura a propos tanto sono convinto che di questo materiale uscirà la classica bagliacciata ah a posto fantastico dunque come allora prima di tutto noi dobbiamo andare a mettere su questo foglio la penna non va bene come aspettavamo però magari freddo col caldo la riscaldiamo appena e lei va a produrre questo si sta cuocendo e va bene dunque dobbiamo mettere su questo foglio questo qua prima ho già buttato alcuni elementi eccoli qua allora alcuni elementi e già ne ho messi sei poi dobbiamo dividere questa categoria di sei elementi da quest'altra micro categoria di elementi che è questo un fluido questo fluido e qui andiamo a mettere una nano categoria di puntini infine andiamo a mettere qui sopra il punto un punto ok questi qui sono dei discorsi di cui uno è doppio e si chiama spettatore poi poi ci sta quest'altra grafo grafomanizzazione che è necessità questo schema servirebbe un lucido adesso per riproporlo doppio riproporlo doppio però per riproporlo doppio noi lavoreremo in questa maniera col colore giallo allora faremo in questo modo andremo a diciamo lavorare in questo modo per così questo così che cosa sono questi sono due siamo io e te uno è giallo e l'altro è nero in cui queste varie categorie ci sono sia dentro di me però si trovano in una posizione spazzata in alcuni punti andiamo già a vedere attraverso il grafico che ci hanno dei punti di contatto punti di somiglianza punti di somiglianza punti di somiglianza possibilità di capirsi facendo degli spostamenti questa categoria a me così a te appena appena così però noi dobbiamo trovare un po' che succede lavorando sul tempo per esempio tre ore tre ore queste due ascisse coordinate per forza di cose per via di questo punto che probabilmente qualcosa che è fuori sia di me che di te si andranno a allineare se tu non metti tre ore queste cose risultano disallineate e il discorso che ne esce è una presa per culo abbiamo detto ah guardate abbiamo visto Putin qui abbiamo visto che Amerigo sta cercando delle soluzioni nuove abbiamo visto che Marsella si è fatto la camminata piccole piccole sfaccettature noi invece dobbiamo grazie alla ciofechizzazione di tre ore rimetterci a questo sistema che è è come se la stella polare la stella polare è automatico cioè è come quando giochi a poker all'inizio puoi giocare a carte coperte però via via che gioco avanti chi gioca se vuoi giocare devi pure scoprire e alla fine e alla fine non c'è verso di barare perché alla fine la verità esce se tu fai prese per culo di tre minuti a effetto con scoreggi e max effetti quello che ti prendi in ritorno sono scoreggi poi alla fine della tua vita hai fatto delle mega scoreggi e siamo tutti contenti senza aver capito assolutamente un cazzo viceversa con la ciofechizzazione ci si ci si scopre ora abbiamo una serie di elementi che erano mettiamo questo pallino che esistevano poco prima che tu accendessi l'audio perché? allora questi sono gli elementi di cui abbiamo parlato forse per un'ora che magari andremo al nucleare perché ora non esistono più perché nel momento in cui si è acceso quello tu hai portato un altro schema che è quello tuo di cosa vuoi ottenere infatti questi erano gli obiettivi questa categoria di destra sono gli obiettivi questi sono i sentimenti o o spirito o fragilità personali tutte le cose più mollicce qui invece le cose dure obiettivi qui invece le cose che ci sono nonostante tutto infatti le necessità sono più dello spirito che della mente e poi sopra c'è appunto quella che tu hai detto stata polare però io l'ho messo come punto perché non possiamo dire manco che esiste che non si sa perché potrebbe essere il mio discorso però l'obiettivo è adesso che quando abbiamo iniziato a fare questo è come se la registrazione sono entrate nuove persone quindi il discorso da 3 ore dovrebbe allungarsi a 17 perché prime 3 ore moltiplicate 3 introduzione agli spettatori e quindi dovremmo capire chi è che sta seguendo chi è che sta una volta ricreatosi un piccolo argine io sono convinto che usciranno i soliti problemi che sono poi quelli di cui volevamo parlare che sono condizioni abitative futuro obiettivi di vita significato e più concretamente soldi 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 per dire risorse fisiche vivere in una vita in cui tu sei felice stai facendo qualcosa che ha un significato per te senza che devi dire grazie o diventare ipocrita con nessuno questo è tutto per cercare ancora di introdurre i nuovi spettatori e lo sto facendo vada non è che non voglio parlare più di quelle cose sto però serve chiaramente questo tempo bruciare il legno è stata una mossa molto infatti è quello che sosteniamo si brucia no guarda lo metto qui al lato non si brucia ci metto qua perché qui brucia di meno però fa un buon odore che male fa tipo di sughero effettivamente cioè i tuoi spettatori sono persone che la loro giornata devono riempire il tuo come di tutti dei buchi e li vanno a riempire sapendo di prendere un determinato cibo che è leggero dura pochi minuti se tu gli vuoi dare loro dicono sai che facciamo ti facciamo un video noi di cinque ore in cui ti parliamo di nostro marito e di nostra moglie per cinque ore tutto lo sentiresti forse no è anche vero che noi siamo professori quindi chi ha pazienza vedrà che tutto questo andrà a essere poi ridefinito con la con la filosofe ma fusariana perché senti quello strumento ti sta ascoltando e quindi diciamo vabbè sto in pace perché tanto c'è qualcuno che mi ascolta invece quando lo togli ti viene la la deprivazione no invece io penso sempre anche a per dire io adesso stavo pensando qualcosa tu hai parlato e tu devi imparare a dirlo io non riesco però se fai no è proprio ci sono certi certe modalità che per certe persone per me per dire non vanno bene eh lo so come per me è lo stesso io lo so che se aspetto tu parli però devo praticamente sta così è capito per quello dico la cosa migliore è costruiamo questa cosa però ognuno tipo io vorrei che dobbiamo imparare a parlare marcello non possiamo nasconderci della tecnologia per per ovviare a questo impara io imparo a stare un po' zitto e faccio così e tu mi parli sopra per 4-5 secondi e poi mi sto zitto cioè vabbè senza fare tutti i giri che devi campionare mp3 di telefono diventa impariamo a comunicare scusa devi dire la tua e dici scusa voglio dire la mia e dici la tua e la difendi un minimo e vedi che devo dire poi imparo che mi sto zitto scusa sennò devo diventare uno che si fustica da solo scusa l'obiettivo mio cioè semmai che cazzo questa terza persona sente mai sta roba e non mi trovo bene a io per dire oppure una cosa che odio è proprio tipo eh star lì a a fare la vittima oppure perché mi ricordo che ho detto lì a Zuttele che abbiamo questa gente eh ma perché non condividere i miei video no? e mi ricordo questa cosa che Gesù per dire non andava mai a chiedere a rompere il cazzo con le sue idee a qualcuno lui stava lì seduto e la gente veniva da lui no? io sto so vedere che il la gente non viene da me non non c'ha non ho niente da dare a questa questa gente e però semmai qualcuno che cazzo ne so eh visto che come dicevamo ieri l'uomo deve comunque cercare di tirare il tozzo del pane in qualche modo sempre in comunità questo io ogni volta che pubblico qualcosa lo faccio con questo con questa cosa del del voler creare un modo per fare qualcosa perché altrimenti siamo sempre in modalità proprio schiavo vittima stavo lì parliamo dei punti dei sistemi inchiati che ci mettono loro davanti che secondo me io quando vedo una cosa non funziona a me sta sul cazzo sta lì a a a perdere tempo con quelle cose che proprio che non non portano da nessuna parte quindi io voglio sempre cercare qualcosa di nuovo perché per uscire da questa merda per uscire dal vittimismo e per il momento a far clown così cercando come ti ho detto di fare l'elettroshock a sti zombie che che vedono i video solo per intrattenimento e mi era fatta in cazzo di condividerli e e poi a me neanche mi piace l'idea di essere seguito da qualcuno però quindi questo questa cosa che stiamo a fare adesso è è un altro cosa che io vedo ok fino a mo' ho fatto cose che non hanno funzionato io non voglio cagare il cazzo alla gente di io ma perché non condividi il mio video se dentro di loro questa gente non sente la cosa di condividere il mio messaggio si si vede che io non li voglio proprio manco sentire manco vedere sta gente che non condividono o comunque non contribuiscono in qualche modo contribuire con me non significa solo commentare e piangere sulle stesse cose mi sono rotto al cazzo qui cioè o facciamo qualcosa di pratico e io so che mettendo insieme gente che è quello che loro non vogliono fare cioè metterci insieme contro gli assembramenti con sta parola che mi fa vomitare quando lo sento perché loro sanno infatti il loro potere è aver unito con questo filo così immaginario con tutte queste miliardi di di uomini e donne e da tutta questa unione che poi ieri dicevamo che naturalmente l'uomo non si sarebbe mai unito in questi numeri in questa cosa così grossa però ecco la loro forza è l'unione però questi zombie non riescono a capire che io con i miei video quello che cerco di fare è di unire le forze per dire per fare qualcosa che cazzo ne so però da una parte poi mi viene in mente che tu dici che comunque è utopia unire fare avere ideali che cazzo ne so però ecco da questo momento in poi cioè il mio sogno siccome non mi evade continuare a fare sempre le stesse cose e che alla fine non portano da nessuna parte vorrei vorrei fare video lunghi perché mi piace so che e questa è una cosa automatica per ogni cosa come con loro che dicevamo se tu dedichi tempo a una cosa esce sempre il risultato come dicevo la cosa legale che stavamo a parlare prima se tu dedichi tempo i risultati ci saranno sempre quindi io vorrei così coinvolgere buttare questa roba così noiosa quello che cazzo è lì fuori perché non quello che c'è attualmente in giro è veramente vomitevole non mi non mi soddisfa la gente è completamente però se in questa marea di presunti esseri umani c'è qualcuno che ci trova ci può trovare qualcosa in questi discorsi così lunghi bene cerchiamo di costruire qualcosa punto diciamo allora mi ricordo quando andammo lì a Genova mi ricordo questa cosa che c'era uno seduto tra queste persone che lì avrei veramente voluto registrare no nel senso che sono state dette cose abbastanza belle diciamo che avrei voluto registrare uno di quelli diceva io mi chiamo Donato e bevo da 5 anni per altri io sono giovane e sono gay e prendevano per il culo il fatto che quando parli parliamo a turno come se siamo alcoolisti anonimi bene bello questo giudicare questo purtroppo purtroppo come la situazione io penso che da non so da quanti anni a questa parte o da sempre la gente fa crede che non esistano delle cose che purtroppo esistono che si chiama spirito lo spirito è proprio il fatto che se sei sensibili a questo spirito e io posso oggi passare per pazzo solo perché ci troviamo in un mondo completamente inutile e quindi io passo incontinuamente per persona polentosa e lagnosa e perché sto cercando di mettere l'attenzione sulle persone su questa cosa che si chiama spirito secondo me poi può essere satana questo spirito se uno vuole fare il satanista e credere a tutte le stronzate che girano modi dei complottisti in questo senso non sto dicendo che le cose che che tu appena non c'hai praticamente il teorema dei complottisti è che praticamente se tu non c'hai in mano delle leggi scritte scritte da qualcun altro che sia la bibbia che sia qualcosa cioè se tu non stai in un selciato e sai cosa stai facendo sei vittima del demonio praticamente questa è la visione degli stoici dei nazisti non so che tu praticamente devi sempre sapere cosa stai facendo e mi sembra dici allora quali sono le tue credenziali quali sono le tue credenziali perché non appartiene a queste categorie esatto e allora ti dicono non solo perché no sappiamo anche che tu stesso appartieni a una categoria i pagani i satanisti perché parli di spirito ma come si chiama chi è Yahweh nella bibbia che sei un tibetano che sei un new age no io ti sto dicendo esempio chi fa teatro penso penso gli viene chiesto per esempio di improvvisare improvvisare io amo parlare questo che si è capito e stra parlare e si è capito io facevo i video di youtube e iniziai a fare una sfida in cui dovevo parlare otto ore cioè all'infinito si scaricano tutte le telecamere e mi addormentai alla fine dell'ottava ora però avrei continuato anche per quindici giorni ma non perché perché so convinto che dopo quindici giorni mentre parli io sento che non è che sto parlando perché sto esprimendo dei codici sto parlando perché costruisco dei pezzi di immagine che poi quando pezzo dopo pezzo vanno a unirsi si crea una specie di spirito spirito questo spirito quando io poi dormo agisce per me cioè mi fa mi fa trovare poi il piatto pronto il giorno dopo lo fa lui in modo automatico come succede se tu parli col cuore di quello che ti passa per la testa punto senza interruzioni invece oggi ci fanno la cosa dell'efficienza parli tre secondi e quindi non hai modo di costruire queste immagini vogliamo mettere nel versante cristiano cattolico più che altro cattolico non lo so la preghiera tu pregando stai costruendo un rapporto tra te e questa cosa che tu pensi come quando ti fai muscolo però non è no lì ha sforzo il muscolo nel mio caso personalmente penso che sia una specie di vocazione cioè la vocazione a straparlare esce esce senza sforzo esce senza sforzo tu magari lo puoi fare in video ognuno lo fa come cazzo mi pare però personalmente io mi piace in questa maniera può essere che voglio rompere i coglioni agli altri ma non lo so perché però sto dicendo uscendo da queste cose che non hanno diciamo parliamo di le persone che fanno teatro mettiamo uno che gli deve essere insegnato improvvisare lui viene semplicemente buttato sul palco e gli viene chiesto di rimanere lì per un tot tempo come chi nuota ok che succede deve necessariamente come primo step o far finta che non è lì oppure legittimare gli spettatori buonasera signori sono qui vedremo un attimo di come passare il tempo le imbastisce e questo imbastimento tutto questo processo di imbastimento esiste è vero ed è importante per cui quando siamo andati a Genova e quello diceva gli alcolisti anonimi parlano così guarda caso gli alcolisti anonimi pare che curano un sacco di persone da problemi di alcolismo quindi pare che funzionino e pare quindi che probabilmente poi non lo so perché ci sono anche queste cose di satanismo che effettivamente straparli e non arrivi da nessuna parte però quello poi è un'altra storia però esistono queste cose quindi quindi un aspetto è parlare così tipo alcolisti anonimi chi più parla più sta costruendo dell'energia dall'altra parte tu dicevi voglio creare qualcosa di concreto non mi va di lamentarmi e di ripetere all'infinito cose che non funzionano o facciamo qualcosa di pratico oppure è andato a fanculo il mio obiettivo è che gli altri per esempio condividano le mie cose la gente non condivide il mio messaggio dicevi ha detto Gesù Cristo parlava e le persone andavano da lui Gesù Cristo non parlava soltanto di spostare muretti di mettere la padella sul forno parlava di spirito e diceva dite alla montagna che si sposterà e si sposterà però lo dovete dire senza ombra di dubbio senza nessun dubbio come si fa ad avere questa assenza di dubbio personalmente la posso avere con questa metodologia cioè che straparlo straparlo poi magari grido magari faccio magari muovo e poi in un certo momento è tipo i fanatici di Bill Laden io ecco quell'approccio vedo cioè mi carico mi carico e poi posso avere questa forza di uscire fuori dire andatevene tutti da questo paese poi torno in casa e mi metto a dormire però sono convinto che qualcosa succede Billo voglio portare sto nome qui perché mi viene sempre in mente perché è uno che io non è che lo seguo però so che è uno che è uno delle poche eccezioni che per esempio parla eppure lui del potere della parola eccetera però tutto questo lo sto sempre per imbastire per tornare anche a me non è che mi piace di parlare più di tanto però prima per esempio dicevamo perché non ci andiamo a occupare un terreno ok per farci un video più che altro per fare la giornata così come stiamo facendo così però con un minimo di rischio in più cioè anziché andare a uccidere il re del mondo alziamo alziamo e questa è una procedura che secondo me funziona molto più di quelle che può lanciare vivi ed è una procedura che possono applicare veramente tutti però non in modo così stupido e schematico come agire e basta cioè alzare la soglia di attrito con il sistema cioè una cosa è parlare dentro casa completamente confortevoli come dicevo prima un'altra cosa invece parlare in piazza dove magari passa ogni tanto qualche vecchio è concentrarsi a far finta che quei vecchi non esistino non esistano che è un esercizio di creazione di una realtà tua in quella che invece loro vogliono che sia la realtà loro la realtà loro io quando esco da questa porta la strada che calpesto è mia o è dello stato la risposta è che è mia ma sai perché perché lo stato non esiste io sì al massimo è del vicino e allora il vicino scenda e mi dica guarda che tu qua non puoi cacare perché passo io e acciacco la merda va bene prendiamo un accordo io caco e ripulisco è un accordo tra me che esisto e tu che esisti ma se tu mi rispondi no questa cosa non è legale stai evocando uno spirito questo spirito è stato creato con le stesse modalità con cui io ho chiesto di parlare per tre ore dieci ore quindici ore hanno creato lo spirito del covid facendoci i coglioni per mesi interi evocato lo spirito non devono più fare niente hanno formato questa cazzo di egregora forma pensiero io lo chiamo spirito nelle menti quando dicevamo gli annunaki non devono fare più niente hanno creato questa astrazione e noi abbiamo creduto a quello lo stato mi dice di no va bene allora fare ragionamenti sul stato va bene o male sono ragionamenti stupidi perché quando parli di astrazioni stai parlando di spirito e per me se io devo vivere in modo saggio e sano devo evocare i miei spiriti quali sono? non sono satana sono spiriti che non so stanno dentro di me e devo cercare di esprimermi e parlare e quindi quindi ti ho detto perché non andiamo a prendere perché l'hai detto tu io ho rilanciato una cosa che hai detto tu tu hai detto quando sarà proprio il momento che tutto sarà una merda io andrò dove cazzo mi trovi in un bosco dove mi trovo un campo lo zappo lo zappo se poi arrivano che mi vogliono mandare a fanculo io li rispondo li mando a fanculo e si vedrà faccio i cazzi miei senza chiedere niente a nessuno e io ti ho detto lo sai che esiste su internet una possibilità che se tu gli dici le coordinate della mappa lui ti dice il proprietario quindi magari uno può individuare alcuni punti e fare la telefonata al proprietario perché magari lui ci sta e ti sto dicendo questa cosa perché personalmente in questo momento io non ho soldi in tasca e non ora che ora mi sto divertendo perché parlo ma domattina io non avrò nella giornata un punto in cui mettere le mie energie e mi hanno insegnato che esistono due modi quando succede questo uno è fare flessioni fare addominali fare esercizi l'altro è non lo so siccome a me mi sembra stupido dedicare a 35 anni la mia vita a questo non parliamo poi di tutti quelli che possono dire va bene trovate una moglie trovate un lavoro perché insomma dovremmo veramente metterci la mano sul cuore e cercare di capire di che cosa stanno parlando queste persone e quanto si drogano in modo pesante queste persone e quindi e quindi quello quindi se uno c'è un campo dici personalmente io magari tra stare fermo e deprimo vado lì mi siedo nel campo il giorno dopo magari come dicevamo in quel campo qua che diceva il tuo pa zappi così fai pure esercizio fisico però lo stai dedicando a una causa che magari ti serve per quello ecco perché ti dicevo questa cosa qua e per concludere proprio i miei punti sono che uno è questo cioè dove mettere l'energia che in questo momento io mi sento una merda io non mi riascolterei mai anzi sarebbe bene pure che si togliesse tutto quello che ho detto io resta le cose che hai detto tu che sono più precise e veloci però effettivamente è un problema che ho quotidianamente io non so cosa cazzo fare non perché non so perché non ho strumenti per fare le cose per esempio che mi piacciono a me piace usare degli oggetti delle cose che stanno adesso a casa mia giù in una casa e lì c'è un altro capitolo che non so se ci sarà occasione di aprire perché sarebbe interessante e ha a che fare con gli spiriti gli spiriti però l'alcolista anonimo ringrazia e c'è della palla se si vuole ringraziamo tutti Ameriglo per essersi aperto con noi fino a come fanno su Fight Club io stavo pensando il fatto che il fatto che uno ancora così usa abbiamo messo sto coso qua che registra è come se è come se comunque cerchiamo l'aiuto di altri tipo nel senso tutti dentro di noi sappiamo quello che sarebbe giusto fare per dire nel mio caso tu dicevi del del zappare la terra perché io vedo un conto è che questi stronzi del sistema ti vengono e ti tolgono ti tolgono la libertà mentre tu stai sudando lì su quel cazzo di terreno la stai cercando di onestamente senza rompere il cazzo a nessuno ma a parte che stai togliendo la proprietà a qualcuno diciamo a quanto pare è però questa cazzo di proprietà anche se io me la comprassi comunque questo stato me la dai in affitto io devo sempre dargli i soldi quindi questa cazzo di proprietà eh si l'ideale per esempio sarebbe comprare il cazzo di di posto con il cazzo di soldi che hai così non danneggi proprio niente la proprietà di nessuno e in quel terreno là cioè io piuttosto che andare lì a combattere con quello zombie là che mi vuole con la mascherina al suo mercato e fare proteste e altre cazzate no io esco dall'asilo nido che è la città vado nel mondo reale dove tu devi zappare la terra per mangiare e non me lo faccio fare dall'asilo nido la pappa che è veneno e lì un conto è quando ti vengono e ti caricano chi che stai protestando perché non vuoi entrare con la mascherina al supermercato un conto è che te vengono e te levano mentre stai su dalla cioè anche loro si fermerebbero un attimo porca droga stiamo cagando il cazzo a gente che sta cercando del sudà e noi come vermi che siamo gli stiamo impedendo di zappare la cazzo di terra invece in città è tutta un'altra cosa tu vuoi ancora avere questa illusione che il supermercato che esiste solo perché questi stronzi hanno messo miliardi di zombie insieme che creano questa cosa che naturalmente non si sarebbe mai potuta creare questo orrore e tu vuoi ancora così proteggere un pezzo del sistema c'è il supermercato che ti dà la roba pronta che è avvelenata come ti ho detto e quindi moralmente io trovo molto più giusto fosse fosse romper cazzo dal sistema che magari ti viene in mezzo alla montagna e ti dice e no dobbiamo portarti via perché uno non paghi le tasse su questa cazzo di terra che ho già comprato che è mia tu devi pagare la tasse dice lui ma come cazzo faccio a pagare la tasse se non mi fai manco vendere la mia insalatina le mie uova perché dici che non sono sane come vuoi tu cioè avvelenate pezzi di merda per dire no? e quindi c'è un conto è fare una lotta di quel tipo là un conto è lottare per un pezzo del sistema e quindi chiedi chiedi un bagno no? sì mi stavo scappando vai 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 però no si interrompe se no no tranquillo che cazzo è vero no non si deve interrompere no e ci perdiamo il meglio ma io continuo mentre tu vai vai tranquillo no tu continua a fare io ti ascolto sì no deve rimanere vai 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 proseguire cioè non spezza un pare pauso ok potevi farlo in un barattolo amico eh? potevo darti il papagallo no vabbè a fare dai che cazzo è lui dai dai mi piscio da piedi ha detto amico che avrebbe pisciato a terra e sono sicuro che l'avrebbe fatto questo porco maialo maialo ebbene sì 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 sto andando il filo è sempre diretto e continuo e qui i fogli stanno prendendo fuoco perché come scrivania stiamo usando la the stove the fucking la stufa stove stufa or sempre con la s soba in albanese che ci sta scaldando ci troviamo qui nel mio paesino in montagna che purtroppo non è proprio libertà per questo stiamo parlando di queste queste robe perché aspiriamo tutti a questa cazzo di libertà il puntino che parlava Merigo forse era la libertà diciamo quella stella polare e tanto lo so che si dice dubbi perché io non lo so ho parlato male di te a Merigo e oh la stella polare è satana la stella del mattino lucifero no la stella polare per me è la libertà che tutti abbiamo in testa che è satana sempre il loro la libertà non esiste va sempre difesa no? o non so posso intervenire? vai vai intanto il tuo discorso è simpatico è carino ed è anche scoriandollabile è scoraggiante purtroppo non va da nessuna parte perché tu hai detto allora anziché occupare un posto bisogna comprarlo con i soldi che hai allora parliamo prima dei soldi sei tu che li hai creati i soldi o li ha creati qualcun altro e poi li hai tu credi che quegli soldi che tu hai li hai tu o li hai tolti a qualcun altro la risposta sono chiaramente facili i soldi li hanno inventati loro e tu con i loro soldi stai comprando un campo per toglierlo ad altri perché il campo ce ne sono pochi sono quelli che sono tanti però il numero limitato e li hanno rubati tutti loro e tu dici che è diverso aspetta poi tu dici una cosa che poi mi fermano mentre io sto zappando il mio il mio cazzo di terreno che ho comprato bravo no 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 stai fermo non andare sulla strattezza fammi farla lavorare ciofechizzamente voi avete rubato bene? come hai trovato Marcel coi soldi con le pagate? non ci sono molte possibilità o hai lavorato per satana per satana o hai lavorato oppure li hai ereditati oppure te li hanno regalati bene se te li hanno regalati il fil rouge il filo invisibile di dipendenza è con il tuo amico quindi quindi se arriverà il famoso poliziotto a dirti dimmi l'ultimo incantesimo possibile puoi formulare un'ultima un'ultima invocazione prima che io ti sparo se l'invocazione è quella giusta io non ti sparo bene tu dici io muoio per Gesù Cristo questo sbagliato potrebbe essere magari tu sei un vero fedele di quello che ha speso tutta la vita perché si sente un cristiano si sente Cristo non so come dire magari lo dici come Cristo disse che bisogna dire le cose cioè con la totale certezza che significa le parole sono incantesime le parole agiscono sulla realtà tu dici io mi uccida ma il mio corpo la mia anima resta eterna se lo dici con forza magari gli si inceppa la pistola bene nel caso però il campo te li ha dati i soldi il tuo amico tu non puoi dire il campo è mio perché mentre dici questa frase arriva lo spirito di Gesù Cristo è vicino ti fa così il campo non è tuo i soldi te li ha dati il tuo amico e quindi l'incantesimo che tu fai non sposta nessuna montagna punto e basta mettiamo il caso che te li ha dati un'eredità l'eredità può essere data per amore o per odio per vendetta eccetera quindi quando tu dici il campo è mio l'hai tenuto per eredità rubo furto amore eccetera ti arriva Gesù Cristo e ti fa così il campo non è tuo i soldi li hai presi perché te li hanno dati torniamo indietro ti ho detto lavorare per Satana e sei arrivato già là all'ultimo livello io invece vado indietro tutti i soldi derivano quelli che vengono dal passato vengono comunque da vecchie versioni dell'instaurazione di vecchie dittature c'era il momento in cui servivano fare determinate operazioni per schiavizzare le persone quei soldi sono stati fatti circolare io per esempio mi trovo una casa in famiglia in cui mio padre può sostenere di essere una persona che ha letto io posso sostenere di essere una persona che ha letto scritto pensate cacato però la casa in cui sono stato è venuta tramite persone che nel passato hanno attivamente mosso delle cose qua come tutte le persone che poi lavorano quindi quando tu esprimi un incantesimo dicendo questo terreno è mio ti stai completamente sbagliando potremmo leggere tosto e di che cosa pensava l'unica cosa per cui le persone dovrebbero manifestare è il diritto al terreno ma il diritto naturale non di acquisto di terreno bene arrivate a questa soluzione qual è la differenza lottare per un terreno e lottare per qualsiasi terreno se lottare però io non intendo come fa Bill Cooper con le armi perché che cosa è l'arma l'arma che cosa è io non dico non usare le armi dico che l'arma è come un bambino che si fa di steroidi e il giorno dopo fa il culturista e non puoi permettertelo per lo meno inizia a usare le armi inizia a usare il coltello addestrati fai flessioni diventa forte fisicamente poi pian piano arrivi che magari sai sostenere pure un'arma ma pensare che hai speso tutta la vita sul divano e ti compri un'arma l'arma chi l'ha costruita chi l'ha inventata chi l'ha creata Gesù Cristo funzionava perché aveva fatto voto di povertà non aveva un cazzo diceva parlate se lo spirito vi segue il pane vi arriverà se lo spirito in quel momento non viene ricevuto da nessuno vi mangerete l'aria non fa niente farete digiunato un giorno ma il pane non vi mancherà non il fucile non vi mancherà perché il fucile è sempre una di quelle creazioni inventata dagli altri poi se arrivi che ce l'hai in mano e ti capita lì e puoi sparare al poliziotto usalo lo prendi e glielo spari ma noi stiamo parlando ed è la cosa che preme alla mia anima anima dell'ultimo incantesimo da proferire nel momento in cui siamo minacciati di morte tipo l'estremo unzione vuoi dire le ultime tue parole per salvare l'anima quali sono ecco se sono il terreno è mio levati siamo ancora nella finzione cioè siamo caduti nella trappola di questi che ci hanno fatto credere che non esista lo spirito e che tu parlando pensando e facendo cose che non si toccano stai costruendo qualcosa di vero io non penso che sia possibile fare quella cosa lì puoi però nessuno ti vieta di farlo anzi se hai dei soldi meglio che ti compri una terra perché entri in contatto con le energie della natura il terreno il seme e quindi cose vive cose naturali e non metallo medicine tutte cose astratte create dall'uomo che ti entrano dentro metti a veleno quindi meglio come dicevamo ieri delle nazioni mettiamo questo al filo e torniamo retrocediamo sempre però non possiamo dire questo è mio sto usando queste cose qui in questa maniera perché possono aiutarmi quindi tecnicamente il tuo il tuo terreno lo potremmo occupare già da qui da sempre da ogni luogo e io inizierei a discutere con le persone su che quali sono le modalità di occupazione oggigiorno parlano di armi parlano di fare di mettersi il pazzamontano e fare attività in cui si mettono dei simboli così qua in giro non non è quello il modo di occupare occupare uno deve occupare nelle modalità che che sono più più giuste e io direi le più giuste sono quelle dello spirito quindi attaccare e ammorbare le persone evocare gli spiriti parlare non lo so in questa maniera qui e quindi questa è un'altra cosa viceversa occupare il campo quindi il supermercato ce l'hanno dato è vero per i soldi pure sono stati fabbricati ti hanno dato il privilegio gli aspettatori gli obiettivi le necessità dici comprarlo eh ho capito poi ci sono anche c'è la giustizia risorse mentali non solo sono visiche c'è chi ha la capacità di pensare e chi non ce l'ha è una situazione complessa però per fini di salute mentale sarebbe bene appunto come ripetevo prima una delle cose che mi urge è liberare lo spirito dagli incantesimi e personalmente come tutti siamo legati a un'eredità tutti quanti siamo legati i nostri genitori da un'eredità può anche essere zero però a livello economico ok però il tuo nome è scritto sei in un libro così come quello della sovranità no che il tuo nome è una finzione quando ti battesi quando ti fa il battesimo la prima cosa che fanno è che ti fanno il primo incantesimo ti danno il nome che è un'operazione di sostituzione della tua anima con la tua forma fisica o con un suono specifico dato dai tuoi genitori veniamo anche da te diventi numero diventi un numero e soprattutto il tuo rato anima si ribella perché non l'ha scelta lei è come un cibo prefabbricato non lo ha creato lei e l'anima invece può creare i nomi per esempio in India gli indiani di America avevano questa abitudine che tu a una certa ti veniva detto dagli ancestors come si dice come si dice dei genitori eccetera si dice a un certo punto un ente della natura che può essere un animale oppure un vento eccetera ti comunicherà una canzone e tipo in quella canzone ci sarà il tuo nome e succedeva sempre che nell'età di una persona a un certo punto succedeva qualcosa di strano nella giornata nella vita in un momento specifico e gli veniva comunicata questa canzone il fruscio degli alberi gli passava nella testa ma doveva essere una rivelazione non gli veniva dato dai genitori in modo arbitrario perché magari gli piaceva tale cantante o gli piace Mussolini e chiama il figlio Benito e quello è un primo incantesimo io a me preme preme liberarmi da questi incantesimi tra questi incantesimi c'è un incantesimo personale che ha a che fare con la la mia famiglia e con questi soldi qui potrebbe essere dopo mi sentirei più più libero poi dove mettere le energie e l'ultima cosa che mi preme è che tutto quello che io ho fatto così come tu cerchi uno spettatore che ti che possa aiutarti eccetera eccetera però dici cristo aspettava che gli altri non essere da me io c'ho c'ho dei disegni delle cose a cui tengo e mi piacerebbe se non altro spostarli dalla casa in cui che non ho creato io ma hanno e vorrei vedere come stanno questi oggetti fuori io praticamente io copio dai migliori diciamo nel senso che io vedo chi è la Juventus adesso chi è che sta vincendo è quello che noi chiamiamo il sistema come vincono questi loro possono parlare di spiriti magari come te che cazzi però lo spirito è protetto dalle armi loro proteggono tutta questa roba con le armi con la proprietà privata loro le dicono questo è mio e se non lo rispetti ti uso questo questo aggeggio qua che ti fai buchi quindi uno può può dire evocare fare spiriti come il cazzo che vale a te ma alla fine quello che conta qua è che c'è questo bullo che tramite queste armi si trova là in alto sono pochi che lo trovano tanti dementi grazie all'uso della della paura non conoscono altri altri metodi per lasciarti in pace che ha violenza puoi usare la ragione che a parte già il fatto come le trattano ti fa capire non so sono best sono mostri e e il peggio che vi ho detto quelle altre volte non sono loro che che propongono queste cose ma che so chi esegue c'è il sistema il male lo facciamo noi noi più in basso sei nella piramide più sei materialmente fisicamente causa della violenza e in alto danno solo ordini così ma questi zombie che sono ipnotizzati da schiavi di loro desiderio e tutto devono fanno la peggio violenza farebbero di tutto per avere i pezzi delle carta quindi c'erano questi zombie che appena tu vuoi fare qualcosa di di normale che semplicemente fatti i cazzi tuo avendo perso le terre ti vengono ti bussano devi avere il permesso pure per tagliare l'erbetta un filo d'erba e certo per il momento restano solo teorie possiamo magari tu dici provare così vedere se in pratica che tipo di violenza mostra questa gente effettivamente effettivamente un massaggino l'abbiamo avuto con il lockdown che mentre volevi semplicemente camminare te fermavo o semplicemente fare la spesa come successo quando mi hanno fatto avuto l'ho fatta la spesa a 4 km da casa effettivamente effettivamente diciamo che stiamo avendo un 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 cazzo di violenza l'abbiamo avuto sono capaci di farlo secondo me quello che tu dici che li difendono con le armi eccetera rientra sempre nello stesso discorso cioè è chiaro che se lo faccio io questo discorso cioè uno deve diciamo così è vero quello che tu vedi è che lo difendono con le armi quello che tu vedi è che c'è il poliziotto dietro ma il problema non è come sono come lo fanno è come ci sono arrivati a questo tu dici ok ma non ce ne prego un cazzo di capire come sono arrivati perché magari all'inizio erano delle preghiere poi hanno ipnotizzato un certo numero di persone poi la violenza è arrivata soltanto dopo dopo che questa ipnosi era già radicata le bestie in gabbia si sono iniziato a scannare tra di loro però all'inizio è probabile che sia un discorso così spirituale eccetera eccetera e ti dico va bene ho capito quindi che cosa stai sostenendo e sto sostenendo che purtroppo se uno vuole difendersi deve utilizzare le mani reddure va bene se queste l'ultima cosa che non ho detto è che praticamente io vedo cioè copiando loro che sono i vincenti adesso che sono armati e uniti tanti questo è lo scopo dei miei video su youtube nel senso c'è anche questa cosa che ho lasciato fuori io sto facendo il video perché da solo chi ha creato questo mondo vuole che noi combiniamo le forze in qualche modo perché devi combinare le forze a quanto pare per mangiare devi combinare le forze se non vuoi stare da solo se non muori spiritualmente ci dobbiamo unire a quanto pare e devi combinare le forze se puoi creare una macchina come la loro macchina adesso ci sta facendo sparire quindi per questo abbasso il mio ego e faccio questi cazzo di video che egoisticamente uno direbbe andare tutti a fanculo però potrei anche sognare così di andare lì e fare la fame i cazzi mia ma non è possibile vivere da soli lo sto provando e soprattutto noi dovremmo almeno tu questo non pensi che non sia così dovremmo così è uscita questa merda non si esce se no gli rispondi con la stessa merda che loro non lo sanno quelli che fanno se tu lo vuoi combattere con lo spirito va bene oppure dici vabbè quando mi ammazzano l'hanno ammazzato è finito tutto e mi puoi far far cura non lo so chiuso allora allora anche perché cosa ne so merda ok ecco bene allora quando noi lottiamo dice ok loro effettivamente può essere lo spirito era all'inizio ero lo spirito però adesso sono le armi il poliziotto viene in carne e ossa se io gli dico gli faccio la formula magica di Gesù Cristo che dice dirai alle montagne di spostarsi si sposteranno non si sposteranno ben niente perché devi avere una clava bene devi avere un non è vero quello di Gesù Cristo le montagne resta una cosa spirituale possiamo pure arrivarci io ci arrivo in che termini negli stessi termini dell'inizio un bambino non può credere di essere Gesù Cristo per arrivare a spostare le cose con la voce la gente che riesce a fare queste cose e ci sono persone che fanno cose formidabili con il proprio corpo con la voce ma non le vedi che fanno video su youtube sono persone isolate da 100 anni ci sono tantissime realtà però può essere anche che non esistono fisicamente a quel livello però ci sono c'è quello che si caga in mano alla prima botta e c'è quello e questo è che non ha paura e non ha talmente paura che quando lo sbiro lo guarda negli occhi si incute lui stesso paura non dico che abbassa l'arma però però più o meno il discorso quale? vogliamo pure ammettere che è la materia le armi eccetera se io ammetto questo ti dico la verità il mio la parte dell'anima mi continuerà a non far dormire di notte e mi dirà ok e hai anche un corpo però facciamo così fifty fifty purtroppo devi anche affermare la supremazia dello spirito perché io sono venuto prima io come anima sono venuto prima di tutto questo che si è creato e tu sei nato per questo non per difendere il tuo corpo sei nato per difendere il tuo spirito ma non standoti dentro casa e dormendo non sto dicendo stare dentro casa e sto dormendo sto cercando di 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 far passare quando dici cerco qualcuno ti sono convinto che qualche che le persone che ascoltano hanno ascoltato fino a qua e riescono a riconoscere i propri pensieri le proprie emozioni si accorgono che quando tu parli di materia di ragione di sparare eccetera dentro di loro si scatta l'ansia e gli scatta un demone dentro che gli dice si 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 è vero è vero il covid è vero l'apparenza esistono le malattie esistono le pistole esistono la proprietà privata esiste tutto quello che si vede zitto quindi lo spirito non esiste va bene vuoi credere a quello non camperai felice però un punto in comune siccome penso che quando dici di unire l'unione si raggiunge come? tramite il linguaggio cioè loro hanno creato lo faceva vedere pure Orwell no? la neolingua in cui per esempio le cose spirituali oggi se tu dici spirito stai dicendo new age se dici new age stai sparando a score age e automaticamente se tu dici cose che non esistono che in realtà è una cosa stra ovvia perché è chiaro che lo stato interiore mentale influisce su cosa pensi fai e dici tu stesso per esempio fai video di mattina perché c'è più energia la sera ti viene un po' di tristezza però dove stavo andando a parare? ecco il linguaggio significa prendersi il tempo a ciofechizzare ok quindi a rallentare per creare dei ponti come se fossero più lingue tu dici che sono le armi io lo traduco e lo vedo così però più o meno riusciamo sempre la mappa che avevo fatta all'inizio era questa in cui si era già visto che ci sono degli spostamenti ma i punti di intersezione ci sono sempre come si può lavorare su questo? col tempo traducendo i linguaggi ok e purtroppo o hai pazienza e ci si intende su determinate cosine si mettono a posto ecco il punto che succede poi comunicando comunicando dal punto di vista materiale se è Pinco Pallino che ci ascolta noi diciamo noi diciamo non ci aspettiamo che Pinco Pallino venga da noi dici a Pinco Pallino Pinco Pallino che ci ascolti vogliamo la tua casa per fare questo esperimento Pinco Pallino che è lì che ha ascoltato compenetrato il nostro discorso metterà a disposizione la sua casa lo farà magari non oggi non domani perché questo audio ancora non è online magari però se tu entri in quest'ottica lo stai già creando è quello che chiamo spirito quando tu invece dici mi rimetto al caso faccio questo audio in cui è efficiente così la gente non perde tempo e poi gli dico finisci sempre nelle trappole ti stai praticamente suicidando qual è il problema perché non hai la percezione perché sei drogato è come quello che si fa il covid parlare di apparenze significa essere premiato dagli spiriti dell'apparenza che sono gli spiriti del secolo gli spiriti del momento loro quando tu parli di numero e infatti vincono sempre con i numeri lo faccio di 3 minuti a 5 faccio un audio di 3 minuti e lo mando a 47 persone così posso raggiungere non vai da nessuna parte devi prima chiedere credere sentire poi vedi io stesso ti posso dire una cosa privata tu mi trovasti tramite un video e anche altri quando mettevi i video su internet in cui dissi facciamo sta cosa faccio finta di avere una scuola in cui insegno faccio finta di essere un professore e quindi faccio anche finta che questo video che sto facendo siccome mi sta sul cazzo l'umanità non lo sto facendo all'umanità lo sto facendo a dei miei allievi che però non esistono li inventerò mentre parlo e difatti non so se proprio tu o qualcun altro mi disse dove è la scuola a che orari fate subito entrò perché è chiaro tu stai parlando e quello gli risponde dici ma allora è un'ipnosi chiamalo come cazzo vuoi però però ci sono tutte le realtà non sto dicendo che bisogna essere questo l'ho imparato negli ultimi anni con varie prese nel culo esiste noi abbiamo un corpo siamo nati con il corpo e non possiamo credere di essere puro spirito le persone che possano essere puro spirito sono pochissime ormai in questo mondo sono state sterminate tutte sono quelle che facevano parte delle tradizioni di padre in figlio gli si comunicavano pratiche precise per non sottomettersi alla paura per non sottomettersi a un cazzo eccetera le sono andate a prendere e li hanno uccisi punto poi la cosa della materia io invece lo vedo molto per scoce l'utilizzo della materia e qui il linguaggio legale è perfetto perché la lotta legale la lotta legale è esattamente una lotta per la una lotta pseudo materiale per distruggere degli incantesimi e basta punto cioè i costituzionalisti che oggi stanno parlando della costituzione che noi sappiamo che è stata creata dai massoni e quant'altro è vero che stanno parlando su una base che non esiste da nessuna parte perché è già avvelenata ma è vero anche che se fatto con consapevolezza tu stai cercando di smagnetizzare un incantesimo che loro hanno creato prima di questo ed era più debole cioè ti ancori alla precedente cazzata che dicevano questo poi lo dobbiamo spezzettare in vari punti tu dici siamo schiavi protizzati della propria violenza fanno di tutto per avere i soldi bene quando ti hai detto questa cosa così non so a che pensavi probabilmente a politici no quelli armati per lo stipendio quelli armati io ho pensato a me penso a solo dati solo dati esatto no no anche soldi soldi dati soldi è sicuro i soldi si eseguono soldi dati soldati e poi solo dati computer computer tra l'altro queste cose poi uno può vederle più in là però sono quelle che passano cioè il nostro cervello però non facciamo filosofia e restiamo a questo punto quando tu invece hai detto schiavi protizzati della propria violenza fanno di tutto per avere i loro cazzi di soldi io ho pensato a me e ho pensato alla lo schiavo che faccio di tutto per avere gli soldi che mi spettano dalla morte di mia madre quando io dico queste parole so che sto mentendo perché questo è ciò che mi è stato detto quello che mi è stato detto è che mia madre è morta aveva una casa intestata questa casa passa eredita a me e mio fratello e quindi a me spetta metà di questa casa questo è quello facciamo attenzione io sono convinto che lì che ascolta e di questo non le prove anzi spero anche che non ci sia perché altrimenti anzi facciamo perdere con questo discorso ho capito no non hai capito non puoi aver capito se sentono quelli no non puoi aver capito è un discorso veramente da malati mentali che purtroppo entri nella verità che insomma lì ci sono delle persone in ascolto che non sono quelle che appaiono possono apparire una volta ogni tanto o non apparire affatto però ci sono delle forze ieri ho provato a dirti qualcosa di quello che penso poi non è che sono professore però ho vissuto è come se tu cadi è come se tu stai camminando su una strada arrivato a un certo punto non c'è un gradino non c'è niente tu cadi sempre là e cadi soltanto tu lì però cadi senti proprio che c'è qualcosa no? e vai dagli altri e dici guardate che qui si cade fa solo loro non cadi tu però continui a cadere e dici no ma te lo stai inventando tu inizi a fare mente locale su tutti i tuoi ricordi quando è che ho potuto inventare qui uno scalino ogni volta che passo cado può essere anche che io non l'abbia inventato che esiste e infatti pare che altri hanno scoperto l'esistenza di questi ci sono robe che non 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 permettono però noi siamo coperti e lavoriamo in una maniera lavorata bene va bene qua si va inizia a dire fin qua l'abbiamo ascoltato a questo punto stiamo iniziando a capire la realtà di che cosa stiamo parlando io ho psicopatico va bene e io sono e io lì apposto sto a parlare con te perché grazie a questo e all'auto riso posso non confrontarmi più con queste cose che sono un po' troppo oltre quello che io posso permettermi perché qui entri in un terreno che no no e vuole sapere che io non cioè non è che dico non esiste con la realtà è proprio che sto all'inizio no 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 se tu devi di tempo a parlare di quelle cose ma che potremmo credere non è che devi prenderti ne devi esserti presa una batosta in testa allora gli dici ah ecco questa batosta l'ho presa da là io allora vogliamo aprire questa cosa voglio chiudere prima quella di prima quando mi è stato detto che l'eredità che mi spetta questa cosa la mia anima chiamarlo così lo spingiamo la parte più intuitiva quella che tu senti dentro no che dici che te ne accorgi quando parli no è presente un attore che deve dire io ti amo lo puoi dire in un modo o nell'altro però tu ti accorgi se quella cosa è stata detta giusto o è stata finta no tu mentre parli ti devi accorgere di queste variazioni dentro per cercare di calibrarti su qualcosa che è il tuo intuito quando a me mi è stato detto questo il mio intuito ha detto non è assolutamente vero e io ho detto ma come non è vero vediamo un po' se è vero e mi sono posto delle domande se fosse vero che mi spetta metà di una casa cosa dovrebbe significare? dovrebbe significare che io in questa metà di casa posso fare quello che voglio risposta posso fare quello che voglio? no devi chiedere permesso a x tuo fratello va bene domanda mia posso chiedere permesso? risposta no perché tuo fratello non ha tempo non ti capisce riprendiamo la domanda iniziale la casa è tua o non è tua? risposta non è mia il che vuol dire che il mio intuito aveva ben capito passiamo ad altre prove sul piano legale è mia? mi informo questa casa non è mia è agli atti di una persona che si chiama la regina immobiliare è una persona che si chiama la regina immobiliare e io il mio intuito ha detto dove abita come si chiama come posso parlare con la signora la regina immobiliare e dirgli con la signora la signora la regina immobiliare che a me invece hanno detto che la casa è mia e non di la regina immobiliare l'ho cercata l'ho cercata e non la ho trovata dopo di che ho detto siccome non l'ho trovata non posso dire che non esiste perché agli atti dice che questa questa persona che si chiama la regina immobiliare esiste come esiste come allora vado da colui che mi aveva detto che la casa era mia e gli dico ehi tu tu mi avevi detto che la casa è mia invece della signora la regina immobiliare e lui dice e allora non hai capito la regina immobiliare sei tu wow e io gli dico allora io sono la regina immobiliare e ho cercato di sentirmi un po' la regina immobiliare allora ho detto sai che io essendo proprietario di questa casa io la regina immobiliare voglio cacare sulle scale dato che io sono il signor la regina immobiliare caco sulle scale caco e mi arriva una persona che mi dice guarda che ti ho non puoi cacare qua ma come io sono la regina immobiliare caco sulla casa mia e lui dice no perché tu non solo sei la regina immobiliare ma sei al tuo interno possiedi alcune hai un cancro hai un cancro questo cancro si chiama Costante Mancini si chiama Egidio Pignatelli e si chiama Paola Crispo ah ho un cancro e quindi perché non posso cacare dentro questa casa perché dentro di te hai cancro e questo cancro non vuole che tu cacchi dentro e ti cazzo la cosa sta diventando molto complicata rispetto a prima che tu mi avevi detto che io ero proprietario di questa casa le cose stanno diventando complicate prima di tutto ho scoperto di chiamarmi la regina immobiliare poi ho scoperto anche di avere dei cancro all'interno che hanno un nome e che possono sia dentro di me che fuori di me uno di questi è mio fratello e l'altro è una persona che io cercherò non so chi sia questo Egidio e la cosa è diventata molto complicata in tutti questi cancro mi hanno anche spiegato che è viva mia madre viceversa il suo corpo sta a Manduria basta andare al cimitero di Manduria è seppellita lì c'è una targa c'è scritto Palacrispo data di nascita data di morte invece ho scoperto che è viva mia madre è viva si chiama Palacrispo ed è viva ed è una parte di questo cancro mio di questa io praticamente non sono io sono sono soltanto un pezzo di un di un di tutti questi cancro quindi tu stai decodificando il neolinguaggio che si non è quello che io sento in tutta la vita nel senso che questo newspeak che loro si divertono il senso le parole sta ovunque sta ovunque ma io dico allora cazzo cosa succede ho una casa oppure ho un cancro era meglio che avevo che non mi davano la casa e non mi davano un cancro invece adesso ho scoperto di avere questo cancro e voglio togliermelo dunque faccio così io telefono a questo mio cancro per esempio mio fratello è un cancro mio dato che io sono mi chiamo la regina immobiliare e il cancro dici guarda sa non ho proprio non ho tempo per te e anzi penso che tu sia pazzo non ti chiami la regina immobiliare ti chiamo Amerigo Mancini e dico guarda la situazione è diversa gli ho detto io non sono Amerigo Mancini sono la regina immobiliare e ho questo cancro lui dici guarda abbiamo già visto alcuni tuoi comportamenti molto strani nel 2019 nel 2020 nel 2017 dicevi che dormi per strada hai mangiato alla Caritas di Roma insomma il tuo curriculum parla chiaro sicuramente stai affrontando un periodo un po' ansioso un po' difficile un po' difficoltoso rimettiti rilassati tieni 200 euro così puoi rilassarti con questi 200 euro presti dal lavoro che faccio presti dal lavoro che io ho fatto no 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 con un satan non esiste no nel senso che tu non sei normale tradotto nel tuo linguaggio è quello e ci siamo capiti no è così però non voglio giudicare perché io sto rimanendo non mai a giudizio sto rimanendo agli incantesimi che vengono fatti e noi siamo pensieri i pensieri sono incantesimi io ho scoperto di essere praticamente da dieci anni non sono Amerigo sono la regina immobiliare simultaneamente però non vogliono che io sia questo e dicono che sono pazzo a credermi la regina immobiliare io ho fatto ricerche perché prima pensavo di essere l'Americo Mancini quindi ve lo dico io andavo in città di essere l'Americo Mancini poi mi hanno detto tu sei la regina immobiliare e ho scoperto che effettivamente è così sono padrone cancrizzato di una casa che però questi cancri si ribellano non ho più forza i cancri di me e mia madre è viva mia madre è viva non è non è sepperti mai scappo no cazzo deve cacare no 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 hai bisogno della cassa no no vai 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 va vai giusto cazzo no 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 c'è una goppa come i cammelli la no no ma è giusto la goppa come i cammelli però le mie coglioni no ora quindi non c'è più i coglioni c'è le sacche svuotate no abbiamo scoperto da meglio un campo posso completare sì quindi ho scoperto di avere non cammelli americo sentite com'è semplice la mia situazione e aspettate adesso riprendiamo ma io con tutto questo asset che adesso vi dirò devo lottare per la libertà contro il covid allora io vi dico il peso stamattina mi sono pesato vado 450 kg ho provato a spostarmi dal bilancio ho chiesto aiuto a Marcel che mi ha tirato e mi ha appoggiato sul letto in questo momento vi sto parlando dal letto e peso 450 kg nel frattempo c'è qualcuno che mi frusta e dice tu con tutte le cose che sai dovresti fare qualcosa per aiutare il mondo io ho detto assolutamente condivido con te alzami ha provato e non ce l'ha affatto e purtroppo è già da un mese anzi due anni che proviamo a fare questa cosa io provo a fare qualcosa per il sistema però non riesco ad alzarmi dal letto e prima non pensavo così prima non pensavo così dunque perché penso così tanto allora poi andiamo a quantificare il livello di diri io credevo di essere americo mancino mi hanno detto che non sono americo sono una regina immobiliare che ho dei campi però non devo dirlo pubblicamente perché nessuno lo può dire quindi lo devo tenere in me è una specie di segreto personale devo soltanto sentirmi profondamente la regina immobiliare ma non posso dirlo perché è una specie di insulto forse ferisco qualcuno perciò in giro devo dire di essere americo mancino ecco la situazione è diventata molto strana cioè questa cosa di non dirlo non me l'ha detto nessuno la verità perché per legge io dovrei dire di essere la regina immobiliare e che mia madre è viva quindi ed è anche dentro di me in una parte del 50% con egidio pignatelli un altro pezzo di cancro e poi quello che dice ho chiesto in giro guarda che se questo cancro ti muore te ne subentra un altro che potrebbe mangiarsi tutti gli altri cancro incluso te stesso io ho detto minchia questa situazione sta diventando veramente dura ecco e chiedendo in giro mi hanno indicato di farmi il green pass per avere una perizia psichiatrica e pare che esistono determinate pilloline non so come chiamarle sono come degli zuccherini che tu mangi la mattina questi zuccherini e tutto questo svanisce non ci sa come però mi hanno detto che esistono questi zuccherini che se tu lo mangi scompare tutto e io gli ho detto senti ma se prendo questi zuccherini e tutto scompare cosa resta posso poi lottare gli ho detto non ti preoccupare poi puoi vivere ti prendi questi zuccherini e vivi e quindi sto cercando un legale che è ecco tutto questo questo discorso qui di questi di questi di questi enti lo conosce bene una persona che pare per ciò che io sappia abbia generato il seme che poi è finito nell'opulo di mia madre e ha dato la vita questa voce che sta parlando che probabilmente è la regina immobiliare è e di mestiere e anche di studio e laurea è un commercialista conosce bene le leggi conosce bene la possibilità di generare generare diciamo rivelazione ecco il commercialista, i legali, gli avvocati sono capaci di prendere una persona che vive nell'ignoranza per esempio un contadino una persona così che vive gli vanno là e gli dicono salve signor contadino vorremmo farle una rivelazione se ha qualche cosa da offrirci abbiamo la giacca e cravatta quindi non so lei potrebbe godere di questa cosa entriamo dentro casa ci preparano un caffè ci fa toccare un pochettino il culo di sua moglie nel frattempo che comunque noi mangeremo e chiacchieremo e io le farò delle rivelazioni importantissime sul suo conto il contadino chiaramente per migliorare dice il contadino si apre la donna si abbassa i pantaloni questo avvocato la tocca ma perché sta toccando mia moglie? ma come perché? perché è così che è giusto che si fa? e lui dice cazzo è vero mi scusi per aver chiesto mangiano e dicono senta ci faccia questa rivelazione dice con i miei tempi adesso mi apparto un attimo con sua moglie e torna torna il contadino intanto lì ha preparato qualcosa altro da mangiare qualche sfizio se la mangia adesso le faccio la rivelazione lei non è una persona lei non è un contadino lei ha questo nome lei si chiama diciamo il regino immobiliare lei si chiama lei si chiama il regino immobiliare e non ha capito niente sul suo conto lei ha dentro di sé alcune qualità particolari ma per fortuna che sono qua io però sa queste cose siccome io capisco che lei ha vissuto quanti anni? lei quanti anni? 65 anni eh la vedo la gobba quanta ignoranza ha generato quella gobba lei è stata al sole ha sbagliato tutto voi sapete avete anche letto della Bibbia sapete che esistono le rivelazioni ecco sono arrivato io a farvi queste rivelazioni voi avete sbagliato tutto voi non siete delle persone voi siete la regina immobiliare e e e e voi siete ecco esatto e risolverò tutto perché so che è uno shock per voi e non riuscirete mai a capire veramente chi cioè non riuscirete mai a sentirvi perché siete talmente lobotomizzati a credere che fate parte del cielo della terra che non riuscirete mai a capire di essere la regina immobiliare tant'è che lei forse non sa neanche di che cosa io stia parlando però come vedo la giacca come vede sua moglie è stata già stuprata è anche goduto particolarmente perché le devo dire che quando ha toccato il mio portafoglio l'ansia gli si è abbassata gli si è abbassata decentemente invece a lei la vede un po' provata sudacchiata vede un po' troppe rughe un po' troppo un po' troppo buttato giù la vede un po' male ma io le dico non è il lavoro che l'ha affaticata il suo problema è che lei non sapeva chi era ma ora lo sa lei adesso ha bisogno di me per riallinearsi con la vera sua anima lei fra qualche anno starà in un letto e prenderà anche lei questi zuccherini però avrà risolto questo problema di identità che non sapeva di avere intanto questo zuccherino lo poggio qua non lo prenda oggi festeggi domani anche zappi perché sa deve lavorare il lutto per questa settimana zappi zappi anche la prossima arriverà un tempo probabilmente fra un mese in cui sentirà di sua spontanea volontà di non voler zappare e si ricorderà che sua moglie ha il mio seme all'interno del suo corpo la pancia li crescerà e si sentirà un cornuto ma questo è quello che diranno gli altri in realtà lei non è un cornuto lei sta scoprendo chi è lei sta scoprendo il suo e fra qualche mese secondo le statistiche sarà lei a chiamarmi chiedendomi aiuto mi chiederà aiuto e questa pillola potremmo dargliela se però ci dà anche il suo campo per piacere altrimenti la pillola lei non la avrà grazie di tanto grazie a tutto era buono tutto davvero come fanno i formaggi i contadini non lo fa nessuno grazie veramente anche la signora è stata molto gentile adesso la lascio questo contadino vede un suo amico gli racconta tutto e gli dice guarda forse non hai capito prima di tutto quello era un avvocato tu sei un cornuto e sei anche pazzo perché tutto questo non esiste gli dice vabbè facciamo finta di niente e dopo un po' però questo povero contadino pare che non si sa che fine ha fatto non so se ha chiamato poi l'avvocato che difatti io sto cercando un avvocato che sconfigga persone che è che conoscono non so come poter continuare questa questa pazzia però quando io dico di spirito eccetera sostengo che io che peso 450 kg perché come quel contadino ne sto capendo un cazzo voglio liberarmi di questo non mi piace e poi ho indagato ci sono altre persone nella mia famiglia che hanno vissuto situazioni simili non mi piace non mi piace tutto questo non lo voglio non solo non lo voglio io non voglio manco che i miei cari vivano in questa menzogna dice allora di che cosa viviamo di niente diamo via tutto i bambini niente pure loro niente diamo via tutto non un terreno diamo tutto via ma chi ah diamo lo so tutti insieme non è facile uscire e quindi in questi terreni per tornare al tuo discorso capisco che non si può lottare col solo spirito ma si può lottare legalmente perché per esempio nel mio caso questa cosa che chiamavo la legge immobiliare in realtà un nome non so perché per me per me sono cose troppo strane e quindi distruggere questi incantesimi tramite la legge soltanto la legge può distruggere questi incantesimi c'è altri incantesimi eh altri incantesimi di riuscire chiudere il popolo ci deve unire altro incantesimo il popolo deve unire prima e prima deve essere magro il popolo perché se un popolo è fatto di persone che pesano esatto hanno un'anima appesantita di questi incantesimi dove cazzo vanno ma neanche ci penso adesso ma hanno tutto il diritto di non pensarci così tramortiti come sono però uno quando inizi a capire che le cose che contano sono proprio queste se qualcuno dovessimo ascoltare di questo audio non penso che non ha capito un cazzo di quest'ultima cosa della legge immobiliare perché però io pubblicherò delle foto così magari qualche avvocato qualcuno capirà vedrà se gli spiriti vorranno se gli spiriti vorranno è comunque un modo di dire di non so di alleggerirsi di sfogarsi di mettere in chiaro pure le cose diciamo che non ti accanire non pensarci e basta non pensarci e basta ok abbiamo bisogno di tecniche per non pensarci ecco perché andiamoci a prendere questo territorio io ho escluso questo cioè se se nego di essere la regina immobiliare sono persona senza soldi nulla tenente e ne voglio che qualcuno mi dia questi 200 euro buttati in faccia quindi da nulla tenente ho già fatto vedere come si vive cassonetti possiamo andare anche oggi io a me piacciono i cassonetti ci entra nei supermercati si trovano in cibo nel supermercato e ci si ricollega alla propria stirpe di raccoglitori che raccogliono la frutta nella giugla e raccolgo in mondizia a essere sincero fra te è uno che per portare la pagnotta se va a prostituire al lavoro tutti i giorni non mi ha fregato qualsiasi lavoro per me è più dignitoso quello che fai è l'unica cosa cosa cazzo devi fare le altre oltre da mamma i soldi oltre da papà ho elaborato non ci sono altre fonti pur è che l'interroto questo per dire anzi non fai nemmeno violenza prendi quello che c'è non ci sono perché alla fine qualsiasi tipo di organizzazione di unione che può fare l'uomo non è mai naturale tipo noi per natura non c'è vale a parte le cose così grosse ma poi come dicevi te la gente è troppo grassa che poter male fa qualcosa perché magari in questo momento già si trova in un gruppo stanno bene vediamo un po' cosa perché per dire noi cose così in privato ne abbiamo parlato però questa volta siamo unite questa terza persona virtuale buttiamo buttiamo questo seme vediamo se non mai dovesse per me comunque ogni volta che sono te questa terza persona costruisce sempre qualcosa ho sempre cose che devo poi ripensare mi fanno comunque crescere vediamo vediamo il cazzo questa nuova cosa che abbiamo fatto includendo anche quest'altra persona se tu oppure se tu vuoi continuare a approfondire altre cose o concludere tutto questo non so quante ore sono non penso siano tre ah ok sono quasi due diciamo ok io quando andai a lavorare nella metropolitana ogni tanto pensavo a te Marster dicevo non sarebbe mai possibile questo che sto facendo con un approccio del genere virtuale perché prima per esempio di trovare il metodo di guadagnare 5 euro io sono andato nella metropolitana e avevo il dovere di guadagnarmi la giornata per pagarmi lo sterlo e se riuscivo se riuscivo qualcosa da mangiare se riuscivo ho dovuto inventare diversi approcci prima che poi però prima che poi trovassi qualcosa che funzionava quella cosa funzionava per nè un uno cioè quando tu lavori su quell'esperimento non sono più segmentali ti accorgi veramente di che sta succedendo e ti accorgi veramente che quando ti va bene non è che hai trovato la soluzione dopo due giorni si può distruggere tutto perché magari le cose cambiano perché tu non ti va più di fare la stessa cosa e devi ricominciare di nuovo però dopo uno due mesi inizia a costruire però il dovere è di andare sempre là la mattina la sera e non ho mai registrato le uniche foto che hanno fatto me le ha fatto una ragazza che mi ha fatto là qualcuno mi avrà fatti i video a presa per culo non lo so però così ecco perché personalmente gli inganni che vedo quando ho detto che io sono la regina immobiliare e non è vero così come io non sono manco Amerigo Mancini la stessa cosa vedo che un metodo del genere può portare da nessuna parte perché viola la certezza di chi ha detto delle montagne quando tu dici buttiamo questo seme e vediamo se poi no se c'è anche un granello di dubbio non può tornare e allora che fare se il dubbio c'è prendi archivi riprendi torno dopo riprendi 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 a un certo punto magari sto dicendo il mio metodo quale sarebbe a un certo punto magari tu riesci a capire che quella cosa che stai facendo non è un seme ma è praticamente una specie di capsula che tu cioè un'azione perché già c'hai presente l'azione successiva che sarà diversa cioè capito come cioè che già devi aver superato la speranza è avere un altro obiettivo di uscire non può uscire niente perché uno deve sentirsi l'audio poi cosa deve uscire cosa chiediamo noi a questo spettatore virtuale niente io chiederei questo spettatore che si sta sentendo cosa chiederei ma potrebbe anche semplicemente il fatto che discorsi così difficili di trovare online semplicemente così ma per cerchi droghi un sacco di materiali così ho mai sentito diciamo persone parlano di queste tematiche che per me sono interessanti io dico quello che ho da offrire secondo me è molto perché come noi due qua in qualche modo in questa ora si è costruito qualcosa almeno per me è così magari si dà una cosa ad altre persone per fare la stessa cosa e costruiscono anche loro qualcosa anche staccati da noi cazzo tu sul tuo canale youtube c'hai il ban che non non ti fa fluire più di 50 persone al mese per me il ban è nella testa della gente no 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 tu ce l'hai stai tranquillo avessi superato qualche così non è possibile che arriva a 20 ci sono state fatte delle operazioni meccaniche di hai subito un ban già sei stato compresso poi io sono convinto che molte persone vabbè ci sono gli ecovillaggi parlando di questo discorso allargato allora dal punto di vista personale io chiedo a questo spettatore se c'è un avvocato spiritualista spiritista Alan Kardec evocatore di spirito mi contatti per fighe spiriti di un avvocato magari che vuoi darmi una brava persona così tranquillo che vuole 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 associarsi a farmi capire il modo di praticamente tirarmi fuori non so neanche dire come diciamo di lanciare il mio obiettivo a livello personale di lanciare il messaggio a mio padre e mio fratello che hanno sbagliato tutto e che stanno continuando a sbagliare tutto e che ciò che stanno facendo è cattiveria è crudeltà ai propri figli e agli altri stanno facendo del male io vorrei lanciare questo messaggio a queste persone dipendentemente dai soldi che si accorgersi ma tu chi sei un santo no io sono un porco se tu mi lasci libero di pagare io sono un maiale completo però ho questo privilegio di vedere da fuori le cose e voglio dire la mia ecco tra le varie cose mi piacerebbe questo dice ok riusciamo a lanciare queste cose che sono delle merde poi ecovillaggi ci sono queste realtà di ecovillaggi tordendo il discorso personale che cosa stanno facendo loro modello delle cose ci sono i gruppi su telegram non so se tu li conosci vedi ecovillaggi ci sono alcune persone che stanno ci veniva da vivere in campagna con quella poi ci sta la lotta che può essere quella di vivi o etsimilia cioè vandalismi azioni paralegali paralegali che io non sono d'accordo perché la stessa cosa la te sul mercato da andare lì a a chiedere così di continuare a stare in questo nasilo nido che è la città a quel livello sono d'accordo con te però l'azione di paralegalità si può fare dal punto di vista spirituale e non è una cosa da fare in modo meccanico bisogna vedersi capire che cosa è lo spirito per esempio un esempio di spirito io in questa conversazione che abbiamo fatto di due ore per adesso anzi neanche ancora due ore ho visto un flusso c'è un flusso emotivo mentre parlo mentre Marcello ascolto e del feedback e ci sono alcuni momenti in cui si è creato una specie di picco più alto di intesa di creazione di dialogo per esempio quando facevo la scenetta della regione immobiliare si è creato un attimo di pic io questi esperimenti li ho fatti so che funzionano uno può crederci o no però dovrebbe prima provare e questa è scienza si fa l'esperimento si prova e si vede se succede o che cosa dal mio punto di prevista personale le evidenze che queste cose accadono ci sono state ok punto e poi basta tu quando hai un pic di questo genere di intesa di qualche cosa lo puoi trattenere più a lungo possibile e fin qua hai creato solo spirito una volta che hai creato lo spirito devi uscire dalla porta di casa e creare un'azione che io chiamavo spedizione punitiva ma non c'è nessuno da punire può essere mettere un oggetto un seme da qualche parte scrivere qualcosa non è neanche necessario che sia in un determinato posto deve essere una cosa che deve essere sentita profondamente però a differenza della sola parola la parola cioè lo spirito diventa parola nel discorso la parola diventa un pic energetico e dopo devi creare un'azione fisica quello che ti pare per esempio finito questo uscire girare per un quarto dopo per mezz'ora il primo campo che troviamo ci mettiamo e per tre ore consecutive mettiamo i sassi al centro del campo punto stiamo parlando senza parole senza segmentati pura azione senza pensare a che cosa stiamo facendo un simbolo stiamo prendendo dei sassi e metterli tutti al centro di un campo vuoto punto poi vai ti cori che hai fatto la tua azione della giornata così come tu fai il video per te un'azione che ti per me potrebbe essere questa però con un continuum pic ecco quando dici la lotta di vivi per te non è giusta fatta in quella maniera non può essere giusta perché nessuno delle persone di vivi è padrone di ciò che sta facendo sta lottando tramite una scritta spray cioè chimera altre chimere ma la chimera non l'ha creata lui l'ha creata il signor vi per vendetta che è un logo c'è una mente queste cose non può che non può che saperle colui che c'è indietro non so chi c'è dietro non penso sia all'italiano che c'è dietro a questa cosa c'è qualcun altro dietro che queste cose non può che conoscere perché non puoi creare niente senza conoscere queste cose tu per guidare un esercito tu dici le armi come guidano gli eserciti tu pensi che li guidano con altre armi no le guidano con l'indottrinamento e le esercitazioni che sono mind control devi lavorare sugli spiriti interiori delle persone per piegarli a tuo a uso delle armi più che altro a rispondere a un solo capo e questa lotta non può portare a nessuna parte ma la scritta in sé non è negativa io credo che se tu la fai in un determinato tipo di faccenda qui ci sono però questi DVV e altre azioni parchi di che io non conosco poi ci sono le ecovillaggi poi ci stanno i costituzionalisti ci mettiamo con gli scardovellismi e quant'altro con varie versanti per esempio ci sta quello lì Italia ancora ancora Italia qui fanno lotta politica con quello cazzo toscano insomma che sono altre robe i nuovi grillo io vedo per ora queste realtà che sono praticamente gli hippie i politici e i criminali nella versione dull colorata oggi cioè pseudo politici pseudo hippie pseudo criminale cioè anacquati criminali anacquati pseudo criminali anacquati pseudo politici anacquati e pseudo hippie anacquati il lockdown ci ha fatto vedere che i criminali non esistono il lockdown ci ha fatto ok non si vedono quelli veri sono quelli che proprio chissà che cazzo fanno perché parallelamente all'annacquamento ci deve essere qualcosa di terribile che non vediamo che ha gestito perché per gestire questi lockdown io credo che determinate minacce siano state fatte non è possibile che sono tutti caduti nel silenzio nessuno ha mai sentito di ribellarsi pubblicamente parlo per esempio dei cantanti parlo per esempio dei mainstream dei cantanti che hanno risposto con una precisa sincronia ci sta l'effetto branco però qualche aggiustamento in caso di emergenza di qualcuno che è qualche bottarella gli va dato servizi segreti e quant'altro però io individuo questi tre gruppi sentivo parlare uno che diceva che molte persone semplicemente il rischio di non avere più i miliardi già te fa linea sì però qualche eccezione capito qualcuno che prende una botta in testa e c'è magari non c'è bisogno di arrivare a tanto basta che te levano i soldi la gente per soldi farebbe tutto bada mettiamo che tu sei una madre di un figlio e tuo figlio per qualche ragione ti è sfuggito un po' di mano ed è diventato uno che magari come te così che parla dice termine da te cosa la madre viene influenzata e cambia rotta ci sta e lì devi poter operare hanno fatto minacce fisiche quindi l'hanno tolti proprio però quando tu dici unire io penso che questi grandi filoni sono già quelli fisici che sono mente, corpo e mente corpo e anima i para i para criminali sono le persone fisiche non vogliono né pensare né sentire vogliono agire i politici vogliono pensare e gli hippie invece vogliono sentire la tua via è un mix un mix io domani avrò lo stesso identico problema anzi fra poche ore avrò lo stesso problema prima di agire bisogna capire se noi dedichiamo tempo a capire dove cazzo ci troviamo e magari poi riusciamo ad agire in modo migliore quindi comunque qualcosa si sta facendo facendo queste cose questa cosa che stiamo a fare ovviamente non puoi aspettare che i problemi spariscono purtroppo quella è un'illusione che è insomma io vivo con questo genere di illusioni qua non riesco a tirarlo fuori ma bisogna agire per esempio io devo riscrivere di più a questi cazzi avvocati cose sui vari fronti a casa fare qualcosa magari per iniziare questa cosa nel campo una passeggiata una cosa e poi appunto parlare un linguaggio che pure gli altri possono capire perché per ora che abbiamo parlato un po' strano però ripeto se noi riusciamo a profilare chi sono le persone concrete che esistono prima di tutto la divisione covidioti no vax proprio diciamo così no? si e poi molti che si definiscono no vax vabbè e poi sottospecializzare i vari gradi ai covidioti non è inutile parlare a covidiotà ascolta soltanto quello che gli dici mi raccomando fatti il vaccino fatti il green pass questo è questa cosa attenzione Putin non abbiamo proprio gli strumenti tu nei tuoi video in cui diciamo per esempio quello lì in cui prendi per culo Putin a che categorie di no vax stai parlando a quelli che sono molto vicini ai covidioti però non lo sono perché ancora è come se li vuoi far vedere che non lo so sottolineando che Putin è una marionetta per dirti questi sono ancora lo strato proprio molto vicino al covidiotà perché a un certo punto non è che possiamo stare dietro alle ultime invenzioni di questi marionettai e dire che non esiste è proprio capito che è tutto finto facciamo qualcosa no? e qui ci sono vari livelli quello è uno quello che si sta sempre attaccato a sentire le ultime notizie sulle marachelle fatte dall'esercito di covidioti massoni poi ripeto quelli che stanno organizzando per i campi per cambiare economicamente la propria vita cioè non lavorare zappare natura eccetera uno potrebbe che cosa può fare con il riguardo noi possiamo trovare un campo noi possiamo fare qualcosa per fare questo c'è il problema secondo me che molta gente non riesce a stare in comunità nel senso sì possiamo condividere certi ideali per dire però me li lasciai cazzo di mio pezzo di terra così faccio quello che voglio il mio angolo dove sto in casetta mia per dire poi se piano piano in qualche modo ci si allinea con un'altra persona ci si può anche condividere le cose però tutte cose un po' è un problema da risolvere che è un problema che è quello di tutti quando nel gruppo ecovillaggi dicono tutti la stessa cosa può darsi come dicono loro quelli che ci controllano se avessimo un problema esterno tipo un alieno che invade la terra che invade che ci sta per ci mette in pericolo la nostra la nostra vita tutte queste problemi sparirebbero fra noi popoli diciamo perché daremo priorità invece che alla differenza fra di noi e ai problemi fra di noi a questo problema quindi può darsi pure che pure per noi dobbiamo sentire il culo stretto sentisse proprio nella merda e poi capì che forse non possiamo star lì a fai schizzi non solo hai detto proprio bene dovremmo tagliarci le poche sicurezze che abbiamo per unirci agli altri e tacciare di ipocrisia quelli che hanno un privilegio in più tutti dovremmo fare voto di povertà comunismo però quello vero non quello creato per standardizzare soprattutto in gruppi piccoli diciamo un piccolo gruppo sperimentale voto di povertà anzi nessun proprio insulto diciamo confessione di quello che si ha cioè ognuno dovrebbe mettere su carta le cose i privilegi che lui ha che sono esattamente le cose che lo distaccano da avere compassione per tutti gli altri e poi fare da tutti questi privilegi un coefficiente di empatia questo coefficiente andrebbe messo vicino a tutte le cose che lui dice cioè se lui parla di cose bellissime vive in una reggia con la servitù le cose bellissime che dice ci si può pulire il culo perché il suo coefficiente moltiplicato le cose belle che dice appiattisce tutti i suoi discorsi e questo metodo appiattirebbe tutti i discorsi perché io accetto qui di parlare con persone non che sono stanno con la mamma ma il papà che gli fa da mangiare tu è diverso perché penso ad altri individui e giocano a videogioco e qualche minuto dedicano a vedere questi video io quando parlo non parlo perché mi piace io odio parlare ma non ho più energie parlo con Marcello e questa è una cosa che mi può aiutare perché mi mette in moto ma non lavoro però ripeto non è uno scherzo che ho dormito per strada se mi togliessero burla macchina sono molto più preparato perché attualmente ho una macchina da qualche mese il reddito di cittadinanza per fortuna penso che me l'abbino levato perché non mi sono presentato all'appuntamento del lavoro perché chiedevano il green pass c'ho questa faccenda che dobbiamo far finta che non esiste a cui mi dovrei confrontare perché per correttezza dovrei dire se questo questo coefficiente esistesse io posso lottare per ottenere questa casa però i frutti di quello che ottengono vengono divisi per chi ha di meno dovrei avere lo dico forse per ipocrisia però se riuscissimo a trovare un un discorso per unire io le eventuali cose che ho le potrei mettere per questo tipo di discorso nel senso che non sono mie sono state diciamo confiscate al male sono vanno vanno dove devono andare ok però questo coefficiente dal punto di vista puramente mentale penso che sia importante cioè io do più valore a una persona che ha dormito un'ora un'ora ha mangiato un panino e sta male soffre non ha amici niente però ti dice 4-5 parole con le 4-5 parole dobbiamo cercare di integrare perché sono un tessuto della realtà una parte della realtà e in quel modo arriveremo ad avere un nemico comune che è l'ipocrisia ma soprattutto quando quando fai quando fai alla fine hai le spalle più grosse perché parla quello che ha fatto quello che parli basta però non è solo quello che tu puoi barare c'è un sacco di soldi di colpi fai le cose l'orto zappi però se sei partito da un privilegio puoi barare sì sì no ognuno poi ha gli occhi per vedere come tu hai costruito ecco o meno però sapendo anche sempre che molta gente non valorizza allo stesso modo le cose esatto quindi molta gente quel coefficiente beh no se lo definisci sì se lo chiariamo non può che vedersi se uno vede solo la materia e vede non va non indaga bene cioè andrebbe definito sì però ecco prima che le cose si trasformino in azione si deve prima ecco un minimo dedica al tempo a pensare e quindi questa cosa abbiamo fatto secondo me è comunque buona sono cose semplici questo è il coefficiente secondo me la soluzione allora lì quando tu fai vedere il coefficiente dici 20 iscritti fate fate questo test di coefficiente punto trasparenza vogliamo vedere ognuno da che pulpito sta parlando perché non posso accettare che uno mi ridicolizzi un altro senza sapere che quello sta patendo l'inferno e io invece sto comodo col culo appoggiato alla serie e però vengo pure applaudito io però effettivamente molta gente è come se magari può seguire il canale ma non non fa uscire il nome cognome proprio perché dentro di sé sa che quel coefficiente è basso diciamo e quindi stanno anonimi però magari vorrebbero perché effettivamente nessuno mi ha mai attaccato anche se io sarei facilmente attaccabile su molti punti moralmente parlando eticamente parlando e però non ha fatto nessuno proprio perché quindi sto dicendo che forse anche quei pochi che seguono per dire il mio canale è come se magari sentono che è giusto quello che dico però è come se sono legati al sistema e si sentono zozzi e per quello non mettono la faccia non mettono i nomi però magari ecco facendo video come questo magari si intanto è stata bellissima l'idea tua di lasciare il video parlare così di far crescere la cosa in modo organico tranquillo senza la fretta senza perché sono uscito fuori un sacco di idee un sacco di un sacco bello più che i video qui serve da fare una politica un modo di gestire le cose di decifrarle quindi il video in sé non vale niente poi altra cosa nessuno ti attacca perché le persone si nascondono qui c'è il discorso che ripetevo prima degli spiriti se tu utilizzi lo spirito della nazione sei un ipocrita lo spirito della nazione è un demone che è stato usato nei nostri cervelli quindi si sottomettono a te perché tu nei tuoi video ripeti determinate parole che mandano in trans chi ti ascolta e ti dici guarda dovrei fare un discorso un po' troppo difficile strano per contraddire questa persona fammi stare zitto perché se no non riusciamo da nessuna parte però tolta questa cosa personale io direi di definire questo coefficiente e di trovare poi il modo di aiutare chi ha il coefficiente basso e non chi ha il coefficiente alto cioè quello che si nasconde sotto anonimo non gli diciamo ah tu povero scemo handicappato che ti nasconde se insulti te lo possiamo dire una volta e ti diciamo senti porta rispetto se ti va abbiamo queste metodologie per migliorare il tuo coefficiente altrimenti ti togli dal cazzo e ti fai a vedere tutte le cose molto più importanti di quello che stiamo facendo noi perché noi siamo troppo fessi per te grazie ciao stare lì a dire io sono meglio di te alla lunga non importa da nessuna parte perché questa è una persona che è un ipocrita non va giudicata bisognerebbe studiare un sistema per allinearsi e il sistema è semplice alcuni capisaldi sono la lotta per il territorio cioè il terreno e quello c'è per esempio Tolstoi che dice l'unica cosa ognuno deve avere un piccolo pezzo di propria terra e cercare poi di vedere di che cosa stiamo parlando però deve essere qualcosa che semplifica capito cioè che questo serve perché le parole ormai ci sono da tutte le parti servono modi criteri di profilarci non loro che profilano noi che troviamo modo di profilare gli altri e autoprofilarci diceva ma non siamo più liberi certo cerchiamo di definire dei nuovi coefficienti per definire il proprio valore personale che debbano includere tutte queste cose qua incluso quello che io chiamo spirito magari da definire le capacità le cose le risorse economiche le tutta questa roba deve essere ben visibile e sono convinto che tutti vogliono e possono fare qualche cosa un po' come se va tipo scrivendo il curriculum che si dice io ho questa capacità questa 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 è uno per dire io per dire che conosco te so per dire che il tuo curriculum ma è lì il problema poi come come dire come dire scrivere questo curriculum che sia vero alla fine bisognerebbe conoscere questa persona perché magari uno si descrive come un santo poi alla fine comunque è un'idea che in qualche modo poi si trova il modo di anche da come si comportano le persone per dire io già ho la capacità ormai di di vedere come è fatta la persona semplicemente da come parla da come si pone da quello che dà importanza già ti fa capire che cazzo di persona se parla in modo pomposo con tante paroloni oppure se cerca di fare veramente capire cose cioè si capisce subito se vuole mettere il bastone tra le ruote o se vuole costruire qualcosa è lì per cercare di fare qualcosa capisci subito e poi parla anche la loro vita nel senso fammi un po' vedere cosa hai fatto concretamente perché per essere bravo potete fare però ti nascondi sempre dimmi un po' quello che ho fatto questo è proprio per tipo valorizzare non quello che vuole il sistema che magari che è per fare cose più schifose come valore o come parametri che può avere una persona ma valorizzare veramente infatti per dire tu per me hai punti quando penso proprio a quello che hai fatto cioè per dire che penso un'immagine che mi viene sempre in mente quella quando stavamo lì alla menza in fila e tu riuscivi a comunicare con questa persona che per me era un pazzo tipo oppure tutte le volte che tipo hai dimostrato umanità che non si può un marco descrive a parole per dire con le persone che ho visto nei miei occhi per dire quelle su tutte cose che non si possono tipo mettere nel curriculum o magari nel mondo d'oggi si sembrano cose che non c'hanno nessun tipo di parole ma per me sono potenti per me valgono molto bisogna capire per molta gente come per dire non voglio di il nome però una persona che ha definito come dei perdenti diciamo non ci avete niente da raccontare come ha detto ciao non voglio giudicare questa persona però prima di dare il perdente a una persona cerca un attimo di capire chi cazzo è che fa non ti posso dire le cose sensazionali così e tu mi puoi subito etichettare come un vincente almeno solo perché ho fatto queste cose pompose per me cose bellissime sono quelle che ho visto nella merda quando l'abbiamo girato per Roma quando mi hai fatto fa quel video alla stazione termini di quelli che dormono per strada tutte queste cose che sono infinite da raccontare per me queste hanno valore però le puoi ricevere non in 5 minuti così come questa persona cioè definito quello del perdente cioè no ha detto cazzo non avete niente da raccontare il suo viaggio per dire dite qualcosa riempite sto spacca ghiaccio quello intendeva forse sì effettivamente anche noi ci siamo messi in una situazione dove in pochi istanti non è una situazione richiedeva tempo per conoscerci e tutto l'altro quindi c'è questo comunque questo coefficiente deve avere due perché la cosa più importante è le risorse per essere oggettivi non si può andare su quello deve essere un'altra parte però deve essere prima da dove provieni io per esempio vengo sono cresciuto mangiando bevendo in una casa enorme l'ho fatta vedere a Marsella il video se viene a casa lo vede non è non è la regge di Versailles però muri alti una bella cosa come macchina una macchina abbastanza abbiamo avuto station wagon però ogni tanto facendo viaggetti se uno ci pensa non è che stiamo parlando di lussi più che altro era questa casa che era bellissima poi facevo il corso di pianoforte poi dal punto di vista culturale mio padre leggeva dei libri mia madre non leggeva molti libri tuo padre però era ingegnere non erano proprio miserabili dal punto di vista economico me ne ho sempre vissuto che non l'ho conosciuto però per esempio come amico io avevo all'elementare una persona abbastanza umile che però insomma controlla molte persone oggi nel paese e più là invece questo qui che era il figlio del notaio quindi forse la persona una delle più ricche del paese e mio padre conosceva molte persone ricche politici politici di Taranto di Martina Frank quindi l'incantesimo in cui si viveva era un incantesimo fatto di questi giacchismi questi effetti più concretamente materialmente la mia vita era identica a quella di tutti i miei amici soltanto con questa glassa televisiva cioè io parlando per esempio con mio padre non avevo la percezione di si stesse parlando con una persona ma con TG5 con questo tipo di persona che sono insomma poi a vari gradi un po' tutti diciamo così però per esempio sempre al telefono mio padre quando stavo in macchina sempre al telefono quando stavo a casa sempre al telefono e tu dici ma se io adesso chiuso di chiamare a qualcuno per parlare dovrei pagarlo come posso fare in modo che mi telefonino a me dalla mattina alla sera forse i medici hanno questa opportunità e mio padre invece telefonavano tutte queste persone dicevano guarda le fissa un appuntamento non si sa per che cosa però questo è già un indice di quanto la situazione sia di un certo tipo di un altro un contadino finisce sta a casa e se riesce a bersi un po' di vino ha fatto quello che deveva fare il telefono è sempre aperto questo per dire che questa situazione forse ha creato in me l'illusione di essere speciale privilegiato chissà che è diverso anche io TG5 e questo è un peso oltre che un vantaggio è un peso quindi non è che uno che dice cresciuto in una situazione più povera deve dire ah vedi sto coglione può dire vedi ecco che sfortunato che sfortunato ho dovuto vivere in queste tutte cose che non riescono a capirsi queste cose strane quindi ci sono vantaggi e qui c'è il discorso quando uno è ricco è come se ha un peccato che deve spiare quindi effettivamente uno nato in una famiglia più ricca dovrebbe fare qualcosina di più perché già ha avuto un vantaggio punto per sentire la coscienza apposta dovrebbe fare un qualcosina di più rispetto a quello che è vissuto nella povertà perché magari forse magari ha qualche debito proprio a livello di risorse perché a livello di sistema suo padre ha rubato le risorse al padre dello sfigato e quindi dovrebbe far di più in onore proprio dei suoi genitori dovrebbe quindi questo coefficiente dovrebbe essere una tabella che è una specie di test che riguarda tutto questo fatto il test poi servirebbe inventare delle prove cioè tu per esempio hai fatto delle prove cammino cammino nella natura senza soldi per tot senza soldi però non ho che ce li hai e non li usi senza niente oppure anche la creazione del canale youtube comunque è stata quella per esempio la creazione del canale youtube però per esempio la creazione del canale youtube in qualche maniera io ti sento di dire che c'entra anche il momento che ci è stata appresso a me io devo a grillo per esempio a me è stato grillo a spingermi pepe grillo sentivi i video di pepe grillo per libertà tecnologia e mi sono fatto il canale youtube tu in qualche maniera ti sei però facevi già video prima però ti sei lo dico così perché secondo me è importante così come io la natura il cammino se dovessi camminare ti renderei grazie a te perché se io un giorno riesco a tagliare la legna devo dire grazie a te perché mi hai fatto vedere come si taglia da solo non avrei mai avuto nessun tipo di perché devi tracciare tutti però il canale youtube rispetto a uno che non ce l'ha comunque che stessa esponente oggi magari bici diciamo perché youtube popò a merota proprio volendo poi anche saper dire cosa anche su se poi dire che intelligente capisce no io penso al canale perché c'è un canale di tante cose che vuol cercare di togliermi le cose ho paura che me le cance però vedi queste sono cose concrete per esempio la prova tu hai fatto la prova camminare avevi i soldi in tasca e non li ho usati però ce l'avevi però hai fatto io per esempio se avevi i soldi in tasca in determinate situazioni sarebbe stato più facile anche fuochi però era diverso però saremmo riuscito a fare quello che hai fatto tu per esempio di andare a bussare al prete e ognuno vedete che è una prova oggettiva cioè se non c'hai un minimo di benevolenza ti mandano a fare un culo più facile cioè penso io non avrei questa capacità mi è capitato una volta poi ho buttato bestemmia tutti dei preti di merda con gli ho detto proprio così finisce però sì è successo pure a me l'ho insultato quando ero stronzi non sempre però categoria prove che hanno a che fare anche con le risorse cassonetto è una prova ma soprattutto anche che ti vuole il voto solo deve dar lui da solo tipo non gli altri che alla fine anche se anche se non puoi dimostrare o meno cioè vale per te se tu sì 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 un modo però di rendere esplicito fatti questo questa cosa tieni tra dentro di te però prima di giudicare l'altro sapo insomma non lo so come si potrebbe sì sì e la prova porta alla dimostrazione di avere capacità in questo sistema rientra anche il covidiota perché lui ti dice ma tu hai dei figli? no perché io non voglio nutrire il sistema lui dice va bene su questo è un coefficiente a favore tuo però io ho una skill che è quella di sostituire il mio bene per questa persona quindi se tu riesci a insegnarmi tutto il discorso che è nutrire il sistema e lavorare e vaccinarsi sbagliato io posso aiutarti a essere a sostituire te stesso agli altri così come io ho fatto con mio figlio puoi farlo per altri e su questo io ti garantisco che ho più esperienze e ti ti può dire guarda che è una cosa bella che funziona così per dirti però ci sono qualità ovunque però che si misurino poi quando li vedi lasciano i fili mascherati c'è per c'è sì se si volentano diciamo ti dici veramente consigli da questo sotto zero coefficiente meno 10 violazione del abuso proprio di tortura no so però lì puoi chiederli lì dica la domanda devi di per essere anche più precisi ti dici ma secondo te il suo figlio per quanti anni porterà ancora la mascherina se ti dice gli anni che servono satanista se ti dicono no no questo è l'ultimo sta finendo questo schifo ci hanno torturato già puoi dire bah almeno pubblicamente sembra giusto esatto no stai proprio capito gli hai dato un tempo limitato dopo la terza dose niente quindi dice no quelli che serviranno me le farò io penso che questo aiuti molto a definire tutte le persone che si interfaccia e tutti tutti quelli che parlano che fanno youtube ecc tostoi per esempio che nacque ricco era bravissimo schifo aveva un sacco di possibilità di soldi di diritti d'autore sui suoi libri la moglie la moglie sarebbe diventata ricca i figli ricchissimi senza dire niente per ciò che ho capito andò a dire i diritti d'autore io non li voglio erano i libri più venduti della storia e la moglie e i figli dicono che cazzo è fatta ha condannato i figli a lavorare e lui stesso pare che ma va poi zappava insomma quindi è chiaro che è partito da un vantaggio grosso però fino agli ultimi giorni ha cercato di espiare e ripulirsi e allinearsi sì perché il livello in cui ci troviamo a nascere non lo scegliamo noi però quello quello che facciamo poi dipende da noi le scelte che possiamo fare e dipende da noi nel senso che non puoi fare una cosa assolutista tipo questo è partito con pot quindi già partono con efficienza basso no ipoteca anche tu nascere al posto suo però dipende da come ti comporti anzi una persona per dire che ha avuto tanto se fa se misuri quello che riesce a fare per uscire da quel tanto vale di più di uno che magari con allo stesso livello per dire c'è una persona che è cresciuta con tutto il benessere fare una cosa un atto così buono diciamo gli viene un po' più difficile di uno che magari è partito con meno tipo non so se questo questo è difficile da definire però perché poi se tu vedi per esempio lippi erano tutti persone ricche volghesi i lavoratori non hanno mai i sindacati sono tutti stati inventati da medie persone non ricchi medi che magari vedevano che non potevano arrivare a diventare dei re e allora hanno detto sai che lavoriamo per quelli che stavano sotto quindi non si sa io posso dire che è questo tipo fare un mix di tutte le cose fino a quante ore di film porno uno si vede tutto il giorno io per esempio sono un capostipite mettere tutto in questo mix poi riesce il codice il codice se lo limiti si deve essere però però la base la base semplice è come mangi punto tu per esempio non ti sei messo la mascherina forse non so se è capitato però non voglio sputtanarti io l'ho messa all'inizio l'ho messa per rubare nei supermercati lo dico pubblicamente non me l'ho preso perché poi non è manco reato perché rubavo quello che mangiavo e andavo ogni santo giorno a rubare ogni giorno ogni giorno finché poi non mi ha fatto la polizia è arrivato e ho detto va ritorniamo ai cassonetti prima dei cassonetti ho rubato prima di rubare avevo lavorato nella metropolitana prima della metropolitana sono stato un anno e mezzo a casa mantenuto prima ancora altri vari barbonismi prima a casa poi lavoro ufficiale niente lavoro ufficiale però oggi fisicamente ho l'ultima ruota del rendito di cittadinanza che è arrivata dopo perché poi ho fatto la banca tolta questa ho cassone per esempio la settimana scorsa io se non andavo nel cassone dovevo chiedere a persone che sarebbero state loro a dove chiederanno quindi la base è come mangi quella proprio è la base perché diventi inintoccabile se tu stai prendendo il cassonetto non sei attaccabile al massimo vuoi schiamare un tozzo però tu dici ok se nozzo che faccio però tra me tu hai detto tra me chi lavora è meglio te io direi che anche tra me e chi mangia e tra me è te per esempio sei non oggi perché io oggi ti ho detto c'è il reddito però se io sto un anno a mangiare nei cassonetti e ti vedo a te che stai mangiando il panino è che hai avuto la possibilità di non metterti la mascherina perché i negozi non li frequenti perché ti portano non solo vinco ho il dovere di insultarti cosa che quando tu hai detto a me non mi attacco non ti attacco perché dici questo qui può essere ipocrita e un ipocrita può essere uno che non ammette poi di essere in uno svantaggio e quindi passi per uno che vuole sembrare Dio perché mangia la merda e non è un discorso di quel tipo però attenzione io sono meglio di rispettate però che cosa succede a livello ipnotico ho questo sogno dei soldi del cazzo che mi fanno sentire che comunque non sono una merda non lo so invece tu non parti da cui la situazione è bene sì poi alla fine ammesso che uno ci creda o meno questo coefficiente perché alla fine si parla di giudicare qua alla fine il migliore che può fare questo coefficiente diciamo sarebbe Dio che vedrebbe vedrebbe perfettamente tutti questi fattori no e uscirebbe fuori quanto veramente una persona vale diciamo e chi ha la gradura dell'umanità miliardi di persone in tutta la storia e noi entreremo e ci daranno un numero 740 miliardi di trilioni di 400 sopra a te c'è tutto nella storia tutti vedi che Napoleone stava sotto ah pensa Napoli Gesù Cristo invece sono io sono sopra e poi il tuo padre tu ma manco li vedi perché sono miliardi tutti ognuno nel suo loculo è una scala oppure si potrebbe avere tipo un'estensione di Firefox che ti dice questo utente qua ha questo numero di coefficiente e osa criticare quest'altro che ha questo numero di coefficiente bravo ed è quello che bisogna trovare e penso che sia proprio doveroso per esempio i discorsi di Scardovelli a me non vanno da nessuna parte non perché sono sbagliati io non entro proprio parla troppo lento non si è mai agitato non ha mai fatto vedere sangue io ho fatto vedere che caco capisce ma non perché è un mio valore perché l'ho fatto perché non ci sto con la testa e non esserci con la testa significa essere agitati essere agitati significa che sei tormentato essere tormentato vuol dire che ti sei ficcato volendo non volendo in faccende che sono grosse ecco perché quando dico una persona che sta all'ospedale psichiatrico top proprio lì a mio avviso stai parlando di divinità scese sul piani da terra che sono persone che sono state torturate mentalmente in una maniera incredibile lì ti avvicini a un deva a una sura ti avvicini proprio a un demone lì hai proprio e non in senso negativo in senso positivo perché ha voluto esplorare in qualche misura alcal cose e quindi io gli do più fede a uno che ha capito io è vero che parlo in una maniera tutta arzicocolata così per fare il sapientone però si capisce che c'è qualcosa che non va ogni tanto spero e quando si capisce io sono contento perché ci c'è qualcosa che non va con quelli che pensano che non c'hanno niente che non va eh vabbè certo però insomma scardo a me che di buonasera salve troppo troppo sapiente capito troppo però chissà però io questi li vedo come effetto della che la causa è la gente che li li fa nasce questi questi senza palle quelle le legalese che le ha forma perché quello si è riempito con tutte le cose delle quando parli tutta sta lingua perché lui è un avvocato non so che un tributarista penalista ricoparmi però è quindi che si è informato se vede che c'è il sangue giusto la gente lo mette quella esatto quindi si sente capito perché parla è utile agli altri come il medico come il cazzo non so il psicologo è utile a questa società di merda esatto a dirti che sei che ti devo curare così ti rendo normale anche lui ha la sua funzione per queste zone bisogna capire chi è più potente tra psicologo medico e avvocato perché gli avvocati non so da quant'è che esistono cioè nelle monarchie l'avvocato non esiste penso però i tribunali c'erano comunque però non hanno tutti gestiti tra loro e loro forse psicologo è una cosa nuova prima di sacerdoti sacerdoti per esempio il sacerdoto ma non vale un cazzo anzi sacerdoti se tu sei prete di colori chione pedofilo ci fidiamo più di merda di mezzo io dei follower che avevo per esempio Daniele Trocchiano coefficiente altissime da 0 a 10 Daniele Trocchiano 9 perché ha rotto determinati muri in una maniera irreversibile cioè significa che lui è arrivato nel campo dell'artistico poetico e tu è inattaccabile tu non gli scopri più il volto se lo scopri diventa una belva ma sempre mi ricordo mi minacciò tipo non dormì oppure si incazzò con quello lì in quella scuola quindi io lo metto alto poi si mangia qualsiasi schifezza quindi ottimo eh sì perché vuol dire che non non seleziona non dà peso capito al corpo sì si sta autodistruggendo però perfini poi l'ho visto come agiva da applaudista noi andammo io e lui dopo che facciamo il concerto ti ricordi diciamo vuoi venire pure tu tu non venisti il concerto no il concerto lui fa gli applausi a quanto dico a Polo Bonoli alle trasmissioni dell'eredità va lì ed è tra tutti l'unico che sta lì lo vedi per un qualcosa che trascende l'applausi non hai idea di che cazzo fa si è proprio sembra uno scienziato pazzo che agisce sugli applausi degli altri in maniere stranissime parte prima che degli altri poi ripete determinate parole per per far aizzare le persone è un capovillaggio però senza ecocentrismo poi c'è per esempio con Gabriele c'è un non so se tu l'hai visto penso che ne ti è capitato che non so se fa ancora video Gabriele è chi? è un altro Gabriele ancora che c'è quel canale che parla di libri di carmelo bene per un certo periodo fece un paio di video Marcel pure dis vagamente sì quello lì per esempio io gli do coefficiente molto in coscienza bassino non per giudizio però buona volontà però diciamo non sta riuscendo a capire che c'è qualche cosa che potrebbe rompere per uscire fuori da un momento un po' strano diciamo cioè ha molte cose da dare che sarebbe bene che desse comunque se sapessimo che queste due persone che hai citato adesso sono vaccinato o meno ma no il Daniele Trecchiano io me lo immagino vaccinato e sarei contento pur che lo sia perché dimostra ancora una volta che non viene strabregania cioè lui non si è vaccinato si è vaccinato così perché il corpo vale nulla quindi va con la con la catena lui è nel reame proprio diverso invece viceversa Gabriele sono coperto Gabriele no è diverso anche l'è fatto con Gabriele D'Agata lui è vaccinato capito però personalmente bravo ragazzo è tutto però anche qui non sento dici di calco come dicevi tu qualcuno dovrebbe darselo da solo però il coefficiente ci può servire per individuare invece noi stessi ah oppure il coefficiente lo odiamo noi quanto dai tu a questa persona però come cazzo fai nel senso che comunque si conosce beh però io per esempio mi sento male a giudicare perché so che ognuno ha il suo perché cioè Gabriele D'Agata è un amico non posso dire di no cioè ci siamo visti abbiamo chiacchierato poi lui pensara delle cose di me magari brutte però non mi sento di mi sento di giudicare se mi viene a rompere i coglioni cioè se uno viene nel tuo canale e ti dice e soprattutto ci serve a noi per capire il tipo di profilo che cerchiamo che a mio avviso deve sapere nel campo del perché abbiamo tre abbiamo definito anche tre tre campi ecovillaggio hippie natura sentimento mente politica costituzione tutte queste troviate qui e poi criminalità illegalità eccetera per me una persona deve avere lo skill totale il controllo totale hai mai fatto una scritta spray non importa col tuo nome e di quello per esempio non è che lo devi fare però dimostra che tu ti sei relazionato con qualche cosa se lo hai fatto ce l'hai hai mai rubato poi possiamo dire no a noi non ci interessa questo discorso però dobbiamo parlarne e entrare nei dettagli io per esempio rubate i supermercati è giusto o non è giusto chi non l'ha mai fatto chi non l'ha mai fatto io ho fatto metodico quattro supermercati al giorno minimo per e so che non è come una volta tanto perché tu sai che la mattina ti svegli e sei un ladro cioè in quella giornata dovrai frequentare cinque furti o vuoi o non vuoi quindi prendevo il monopattino ho trovato andavo a Carrefour con il solito movimento due scatole di toro uscivo colazione fatta boom e c'è il momento ed è diverso perché è un training boom quindi un mese di furto nei supermercati usando la mascherina perché è superiore lo skill del furto a a a capisci? a mio avviso per lo spray è diverso perché lì se proprio facendo un crimine se non mettiamo la mascherina se è come un ladro oggi eh sì capi subito nel macchio bravo se ti metteva la mascherina ti fotti pure le cose che cazzo se la c'è brutto e breve vieni qua ti dici se ti amico io forse capisco tutto però natura quali sono skill accendere un fuoco capisco perché questo scritto di sopravvivenza furto che cosa tu sai qualcosa su quello a imblucare nei appartamenti o me lo fai che si vede nei video effettivamente ci sono le prove che potrebbero imblucare un appartamento beh quello per fare una prova altissima quella è una prova mi ha visto di serenità perché perché io tra imblucare e morire di infarto sapendo che può venire uno mi uccide di botte io già ho problemi a dormire perché sono agitato figuriti se dormo qual'è una prova infatti ho imparato che non va mai fatto però ti è successa una volta che ho dormito perché c'era la neve fuori era buio nei miei occhi quell'appartamento no non era buio non era buio non diciamo cazzate nei miei occhi era un appartamento che poteva salvarmi la vita perché non sapevo dove cazzo passava la notte e stavo in montagna con la neve e entro in questa probabilmente seconda casa di qualcuno semplice casa niente di che e ho usato la legna per scaldarmi quella notte e poi alla fine ho pagato la cosa perché i poliziotti mi hanno beccato quando stavo in un'altra casa che questa non era di nessuno tipo abbandonato e lì invece mi hanno messo la multa quindi è come se alla fine quello che mi meritavo l'ho beccato diciamo ovviamente in quella casa non ho sfiorato niente però è una cosa che se qualcuno facesse in casa mia sarebbe veramente incazzare io l'ho fatto non sono fiero come non sono fiero di aver fatto cose peggiori di questa però sono sicuro che molta gente ha fatto e fa ancora molto di peggio ma questo non è va a vantaggio il fatto perché hai dimostrato di saper sopravvivere e lo hai fatto senza cattiveria perché poi quando ti hanno fermato hai detto scusate immagino non sapevo non è che ho cercato l'appartamento ricco quello che cazzo è capitato lì in montagna per prenderti soldi per sopravvivere esatto questo non stiamo parlando di skill animali di sopravvivenza punto di quello stiamo parlando hai dimostrato di lì perché io sono una persona cattiva ci sono due cioè poi ci sono le facilitazioni oltre all'atto telecamera o non telecamera perché la telecamera ti dà l'impressione che non sei solo e poi se la telecamera se hai follower o non hai follower quello è diverso però l'atto in sé poi quel cammino là sono stati potenti anche tutte le volte per me questo lo vedo anche non solo con cose fisiche cioè il mettere in ordine le cose è quasi una mania mia però mi dà proprio una carica porca tipo quando metto anche a posto c'è sistema a livello software il computer a farlo funzionare meglio cioè non puoi capire la carica che mi dà oppure tipo quando all'ozzo ho fatto le entrate tutte in pietre per dire cioè ogni volta che crei qualcosa che migliori qualcosa per dire ti dà proprio una carica e in quel cammino là che è dove ho detto che sono entrato anche in questo appartamento in altre occasioni ho dormito in casa abbandonata diciamo in montagna anche in rifugi altre cose però dove è sempre stato bellissimo questa cosa del tipo trovare un casino tutto sporco tutto disordinato e poi alla fine quando hai finito tutto l'auto dopo tre ore che ti sei ammazzato proprio poi vedere tutto pulito col tuo fuocarello là quello è bellissimo sempre ma io penso che una cosa dell'uomo questo cioè cercare di migliorare sempre ma come con il software inventi sempre modi per farle quelle cose in modo migliore cioè il migliorare proprio penso che piace a tutti quando abbiamo fatto uno sforzo e poi godiamo del del risultato dello sforzo diciamo non so che stavano di prima di questo sempre i coefficienti ah coefficienti perché se noi creiamo tutti questi coefficienti possiamo anche creare un'esercitazione un'altra dei coefficienti è frase pronta quando arriverà lo sbirro a ucciderti tu devi avere la frase più l'incantesimo più forte da dire cioè dobbiamo creare tutto questo jiu jitsu perché creato il jiu jitsu noi abbiamo praticamente un modello su cui noi possiamo dire questo è il nostro la nostra costituzione bravo e firmiamo la nostra costituzione e a quel punto nessuno ci distruggerà e poi devi dimostrare con video per dire come vivi ti chiedo di andare a scrivere per dire fai un atto buono però la telecamera un po' corrompe no? la telecamera non un po' corrompe diciamo i coefficienti da 0 a 5 sono con telecamera da 5 a 10 anonimato da 10 a 15 solitudine ed anonimato perché se tu è un amico a cui lo dici lui funziona da telecamera ma se lo fai soltanto tu e non c'è nessun altro sei ancora sopra infatti per questo alla fine se uno crede in Dio capisce che lui sta tenendo questi coefficienti e però noi non dobbiamo fare o o dobbiamo mettere tutto in linea e permettere a tutti i nostri pensieri di fare quel progresso ognuno partendo da dove può esatto poi c'è anche un altro progresso la telecamera non solo per esempio io è vero che non uso la telecamera però ci sei tu che ogni tanto mi imbuco e so che comunque tu sei la merda che usa la telecamera io sono quello che non la usa più per dirti capito però anche se tu non ci fossi io ho capito che è proprio un suicidio è l'unico suicidio perché ti dà l'impressione che ah vedi abbiamo risolto facciamo una bella lavata di mano una bella frizionatura della testa e soprattutto ho visto che quando tu non usa la tecnologia vedi che cazzo è quando gli altri quei telefoni però ho capito quindi uno che fa il video che fa un'azione buona è certo è tipo fare è tipo pubblicare per dire vai però il fatto che corrompe la telecamera si no però deve dimostrare un pizzarrone proprio di cui non ci si fida esatto facci vedere e quindi uno vede per esempio nel suo profilo per dire per me punti sono nome e cognome nel cazzo online e foto ti dà ancora più punti avere un video dove parli invece di giudicare l'altro e basta ti dà altri punti avere un canale tuo dove hai parlato per tanto tempo ti dà molti più punti ma non ho perché io ce l'ho tutte queste cose però porca troia però anche porca troia però anche vabbè ok poi vedi un coglione che se viene lì e ti commenta nascosto come un bambino vuole di la sua quindi dipende su che temi se tu per esempio mi stai chiedendo ammetti di essere un assassino o qualcuno che può far video così dipende pure da che cosa di che stiamo parlando sta prendendo fuoco tutto nero perché ve l'ha migliorato dai ma che c'è invece di deteriorare però non è un'estora una nostra costituzione un nostro regno esatto noi abbiamo il nostro regno noi dobbiamo scrivere cercando il nostro regno non sarà perfetto perché è fatto ancora in due non è un regno proprio sovrano marcelli su però possiamo provarci e possiamo anche chiedere poi agli altri se vogliono ammettersi al nostro regno dandoci tutti i nostri soldi e risorse delle donne o uomini nel caso di america la verità mi piace la creatività io sono no anche anche quella è una tematica molto importante per me non è che ci deve essere il teatro a una scopata mista come un atto teatrale che deve riguardare tutto e tutti oggetti animali persone di un'età dai 0 ai 100 ecco questo mi sembra un ottimo momento per chiudere questo video e invece no invece no perché scusa però se io ho questi problemi dirlo e pensarlo è molto meno che tenerselo dentro e e non farlo invece tu lo dici magari ti trovi in circonda da persone che ti fanno capire per quale motivo tu sei finito in una trappola mentale del genere è sempre meglio esprimere eh certo tirare fuori questo cancro si ad oggi non ho fatto nessun atto schifoso diciamo verso persone difese mi piace il profumo che troppo duro da bambino che sono interrotto le cose così no sto pensando a questo che dice 3 hours 3 0 0 esattamente adesso 3 2 ore vediamo non è 3 ora è 3 3 è un numero magico io lo cancellerei no e no come avete visto purtroppo non è stato cancellato perché l'ho pubblicato ma scusami è una cosa pesantissima io l'ho fatto per intrappolarti a parlare altre 3 ore è che così sono riuscito a estirparti di 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 trazionarti le palle a straparlarti le altre 3 ore dopo le 2 precedenti ma fatta questa trappola dell'audio chi cazzo se la sente perché dovrebbero sentirselo va a a essere un'ulteriore sofechizzazione viceversa scusa te lo creo io un sito premiership membership mettilo come privato tra i due video e lo mettiamo o a pagamento o a uno che ai migliori cioè capito dobbiamo avere qualche prodotto da dare a quelli migliori rispetto ai peggiori tu tu per esempio vuoi dare a consuelo e dici guarda abbiamo creato questa nuova iniziativa questa serie di video che ci stiamo investendo 3 ore cazzo america non è una merda è uno che ha in certi percorsi oppure non per soldi però per investire una certa emozione nel vedertelo tutto per lo meno cioè bisogna invogliare le persone a investire il tempo e l'energia che sennò non la cliccano non la cancellano quelli che non vogliono dire eh no non cazzo tu ti so cazzo allora scusa scusa allora ieri ho avuto 450 visite sul tuo video ok indovina quanti hanno cliccato sul canale nessuno no cliccato non iscritti 1 ogni 100 probabilmente ogni 100 visite 1 si sarebbe scritto ok tu hai 25 visite su quelle dovrebbero essere 400 per avere 4 persone che scliccano su questo video con più interesse ok se invece tu lo tieni poi fai quello che vuoi però non le vuoi dire se tu lo tenessi e inizi a vedere per esempio fra quei 20 ok tu li conosci i nomi di qualcuno di quanti 10 5 quanti sono che sai il nome che parli ogni tanto ma tu pensi fammi finire il discorso ok ma tu pensi io penso che noi non contiamo un cazzo nel senso che se le cose succederanno succederanno no 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 qui stai andando oltre la realtà nel senso no per te forse è così ti spiego perché perché tu sai dove stai arrivando dal canto mio no io so benissimo che quando io dico una cosa e faccio una cosa che deve succedere quella cosa succede in questa modalità io sono ultra sicuro che finisce nel cesso poi è chiaro che si chiude lo sai che ho imparato non è che sono divento un pazzo mi bevo una cosa sto tranquillo però sto cercando di generare una nuova possibilità se vabbè quello perché tu non hai nessuno tu dici a me non me ne fotte un cazzo di andare a chiedere a queste persone se vogliono entrare o vendere quella è effettivamente una difficoltà perché però scusa per esempio potresti fare una selezione di due minuti con giusto ma io il compito mio l'ho fatto facendo sta cosa qua ho dato energia a fare sta cosa e lo metto là io l'ho fatto io l'ho pure ho messo energia o no certo ebbene a te cosa ti rientra io ho fatto il mio più di così non posso fare cosa ti rientra a te che la persona si iscriva al tuo canale e si vede gli altri tuoi video ho sbaglio non a te poi che tu servi la causa di Dio è un altro discorso però al sistema cosa rientra giusto per finire di parlare perché altrimenti non ci si capisce questo cazzo di video visti i tempi non solo questo ma anche se dovessimo farne altri se trovessimo una formula di res che io non conosco però potrebbe esserci no se tu gli spari il pippone di tre ore in cui si sente sta cazzo di cioè per esempio non lo so mette una musica di sottofondo qualcosa per smagnetizzarlo prendo la foto che foto vuoi mettere qui faccio una foto a sta cosa qua un po' a cazzo che cazzo mi vuole fare se uno per questo ti dico tu e con noi abbiamo buttato noi abbiamo buttato un seme ma se sai con chi sei parlato se il terreno è arido scusa per questo seme lo puoi fare super cazzuto sembra che sempre ti devo chiamare americo ti devo chiamare marcel tu ti ricordi quanti video producevo io con mio padre un sacco ti ricordi ma io no scusa se no non parliamo da se ti ricordi seguivo il tuo ragionamento o no quando tu scusami quando tu lavoravi ti ricordi che tu dicevi dobbiamo cercare delle metodologie te lo ricordi per fare e io dissi senti marcel vieni nel mio live che ti faccio un'intervista vestito da papo natale te lo ricordi e mi vesti da milanese perché avevo capito che stavi cercando delle cose che non esistevano e io che facevo registravo producevo e mettevo online te lo ricordi o no? e non è quello che stai facendo tu? e o non è la stessa cosa? dal punto di vista tecnico? sì ma no e ti sto dicendo che io lo conosco il tuo punto di vista non sono uno che ha paura che diventa online ormai c'è la foto c'è tutto di me non ho paura di niente ti sto dicendo che ero così pure io che buttavo le cose e dicevo se arriva qualche cosa e purtroppo dopo tutto questo tempo sono arrivato a questa conclusione che era un discorso che mi stavo vedendo allo specchio mi piaceva che mi vedeva allo specchio e finiva là cioè che stavo facendo il mio io sto dicendo giusto per ragione poi fai quello che cazzo vuoi ma queste quattro ore tre ore chi cazzo di quelle venticinque se lo vedrà e mettiamo che se lo vedano tre ok mettiamo giusto per dire giusto per fantastica dove vanno quelle tre persone cosa fanno niente è stato un seme dici tu allora facciamo così facciamo una preghiera cioè cerchiamo di capire a che cosa io che non controllo il mezzo perché questo poi va a te e tu gestisci le fasi terminali della cosa diciamo così a chi va questo prodotto secondo me a chi vorrei a chi dedico queste mie quattro ore di energia io personalmente le dedico non a qualcuno ecco voglio dirlo se non sta registrando no voglio dire dedico queste cose non a qualcuno che ha qualcosa da imparare da me ma qualcuno che mi aiuti e non mi metta a piangere perché mi hanno insegnato a non piangere ma io cerco aiuto aiuto non allievi cerco aiuto sto male sto male sto male e voglio che di lì ci sia non uno che mi insulta perché io per quattro ore nonostante tutto ho fatto una richiesta di aiuto collego della persona buffona che sono ma è un aiuto vedete voi come ma è una richiesta di aiuto dici no allora non riesci a donare no non sento di poter dare niente non ho mai avuto dimostrazione né ringraziamento da qualcuno che ho dato qualche cosa in vita a meno quindi parto da questo discorso qua e mi sembra un atto anche di arroganza questo quindi detto questo poi che cazzo vuoi e mi sono riscolpato punto ecco se no pare che ho detto ora io vorrei manchester e qui andiamo apprende 0 no 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 zero no